Inizio a giocare, ovviamente mi chiamano per una goal. No, Mantuzzer! L'hanno fatto con Word? Più o meno sì, grazie, sono bello. Belli, bravi, bravi, bravi! Sì, lo so, behind you, quella statua, non lasciamola stare. Unreal Engine 5. Clicchiamo di nuovo su avventura. Era soltanto per stuzzicarvi la favola. La mia presentazione è PowerPoint della tesina di Terzo Media. Ciao, Irene! C'è una parte di me convinta che la raccolta fondi sia nata come uno scherzo. Poi sono arrivati i soldi e hanno annunciato qualcosa per giustificare tutto. No, 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 che smallo, perché la raccolta fondi l'hanno fatta per il Terzo. Loro sapevano, lo sapevano. Tore, salve, benvenuti, si accomodi. Partiamo, ordunque, amici. Parto dall'inizio. Gesù, no, 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 fermi, fermi, fermi. Per tutto ciò che è giusto. Napoli, 4 marzo di una data. Non lo so quale sia. Sentite la musica? Oh, guardate dove siamo. Al porto di Napoli. Che non ricordo il nome, però è il porto di Napoli. Ma fra l'altro, che cosa è che mi sta dando errori qui? 2011. Pensa, questo gioco è fatto nel 2011. Cosa avevamo nel 2011? Un sacco di giochi belli. E' molto giocato in Russia e in America. No, Serpico, l'ho detto prima. Entriamo, amici. Forza, perché qui si ha da prendere il traghetto. Forza. Vediamo il biglietto. E' per Capri, da Napoli a Capri. Tutto a posto. Raga, 15 euro. Gli avete 15 euro per... Raga, vi ho pagato la casa. No, vitto e alloggio io. 15 euro vogliono. Ce li avete? 15 euro per raggiungere Capri. Altrimenti rimanete a terra. Non voglio sapere niente, po'. E poi vi potete lamentare quanto volete voi. Fate quello che volete voi. Va bene? Ma sono foto? E sì che sono foto. E' certo che sono foto. Benvenuti a Capri. Vabbè, se li avete, sgancio i 15 euro. A posto, a posto. Entriamo, dai, prendiamo posto. Io, di solito, sono sempre il tipo di persona che va a prendere l'aria. Oh, che bello. Che bello. Guardate lì. Siamo già arrivati. Il tempo di salire sul traghetto. Io ne ho 10. Vabbè, prendono Satispay. Sì, ho capito. Ho pagato l'hotel. Ma vi invitavo io a casa. Nel 2011 avevo la maturità. Anche io. Maggio da tempo, però. Accettano la carta. No, solo spicci, raga. Ciao, Talin. Ci vuole circa un'ora per arrivare, Talin. Non conosci il nostro traghetto. L'abbiamo già fatto. Siamo arrivati. Guardala che bella. Guarda che bella Capri. Oh, parcheggiamo? Oh, guarda lì quanti casi. Raga, chi è che sta qua tra di voi? Vedo già la testa di qualcuno. Vedo già la testa. Sofficino, sta là. Eccola là. Eccola là. Guarda, guarda, guarda. Guarda pure Wolfina. Wolfina, la vedo. In mezzo alla folla, la vedo. Eccolo Clonoa. L'ho visto, riconosciuto Clonoa. Si vede proprio la stessa faccia proprio. Arrostamo. Stiamo a Capri. Una zingara mi ruba. Come? Voglio essere la tipa sospetta con la camicia bianca. No, non è sospetta. Scendiamo però. Dai, per favore però. Quanta, quanta folla. Quanta fila. Ci sarà un taxi? Qualcuno che ci può portare? Oh, che be... Annusate l'aria. Sentite? C'è già aria di ricchezza. Il ristorante e pizzeria Peppino. Ci siamo tutti? Non che poi qualcuno si perde. Infatti, sono quello vestito da vecchio. Ma che lo spingete? Che fa? Tocca. Malinga. Così sono scostumate. Uno prova a dirgli qualcosa, però non ci riescono. Dividiamoci i negozi. Ma qua, Diego, raga, non si spende. Manca un euro. Dovete stare calmi. Posate i portafogli. Avete pagato? Basta. Abbiamo pagato il traghetto. Da adesso in poi. Giusto il taxi. Qual è la trama? Non abbiamo ancora iniziato, Laura. La vedrai insieme a noi. Salve, salve. Benvenuti. Si accomodi. C'è quella rama di salsedine, cherosene e cacca di gabbiano che fa molto riccanza. Prego, si accomodi. Ma pensa, abbiamo trovato addirittura un taxi. Guarda il taxi poco photoshopato su questa foto. Allora, ragazzi, prendiamocela con calma. Il taxi è da ricchi. Guarda. È poco photoshopato in questa foto. Senti subito la tipica gentilezza, Gabriele. Vabbè, entriamo. Ehi, grandi rumori, amici. Ehi, vabbè, si sgomma. Andiamo verso la piazza. Forza. Metta la marcia, tassista. Si muove scontornato col programma automatico, sì. Corra, corra. Che qui dobbiamo pagare un sacco. Non so se piangere o ridere, ho lì, mi lascia stare. C'è un po' di gioco in questo fotomontaggio, sì. Va, curvi, curvi. Decelleri, deceleri che c'è la gente. Qui facciamo un incidente. Eccala, lo sapevo. Lo sapevo. Chi deve vomitare? Le bustine. E questo corre, corre come un pazzo. Ma cosa succede? No, no, le foto le hanno fatte loro, chi io? Tutte loro. Ciao Elito. Andiamo avanti. Signora, c'è pure una signora. Ma non investa la signora. Mannaggia tutto. Cerchiamo la villa che voleva comprare Yucugina. Ci passeremo. Sta facendo 8.000 rampe di scale. La signora ha fatto sicuramente 8.000 rampe di scale. Va bene. Andiamo avanti. Va bene. Vudi, belli. Vendono pure i bustelle a Capri. Ma si può andare qui, sicuro? Non è zona a traffico limitato? No? Signore? Ah, vuole i so, giusto a me. Raga, qualcuno tiene qualcosa di so. Ciao Fafo! No, Fafo! Ciao Adele! Pupo e Riggio! Ma sai che mi mette Simone e il tizio che ha fatto le foto? Che grande scartavetramento di chi io parla. Sì? Anche perché sappiate che ha fatto 5 passi, foto. Si è girato, foto. Si è rigirato di nuovo altri 5 passi, foto. Ciao Sesto! Vieni! C'avete una cosa di soldi? Vediamo quanto ci abbiamo. Quanto abbiamo? Esamina. Raga, quanti sono? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Raga, per me 7,25 euro va bene. No, sono 7. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Ah, sono otto addirittura. Perché questo qua ce ne sono due. Sono 8,25 euro. Per me si paga un taxi. Dal ciao al no, stasso in treddecimi di secondo il record. Scrivi le cose! Ho com'è otto sottro. Dai, siamo a Capri, raga. Le cose costano. Che dissi ha un codice sconto? Il tassista? Ma che cosa? Dai, gli do questi, raga. Le uso. Grazie e buon divertimento. Ah, tappò, fatto! Bravi, bravi! Si è preso. Però, va là che comunque che sofisticatezza questo tassista. Si vede che comunque ha la classica divisa da tassista. Bravissimo! Signore, va via! Sta facendo retromarcia. Vabbè, noi allora andiamo a farci un giro per Capri. Sembra mio zio questo tassista. Effettivamente sono le fotografie che fanno... Tipo i genitori in vacanza. Bravo, Caccio! Bravo, bravo, Caccio! Oh, che bello! Guarda lì quanta gente c'è già a Capri. C'è già un sacco... Eh, vabbè, ma quanta folla! Signori, mi fate passare... Bella stupesca! Eh, Serpico! Bella stupesca! Serpico controlla le vetrine, vede i prezzi e sviene. Lo so, raga, vi ho detto che non si compra manco una caramella. Non ci perdiamo, raga, tutti vicino. Andiamo a chiedere informazioni, perché noi dobbiamo andare ad alloggiare al... Come si chiama? Al... Madonna, signora, che paura! Dobbiamo andare ad alloggiare al nostro hotel. Quindi chiediamo magari indicazioni, così non ci perdiamo. Quanta gioventù, avete visto? Per l'hotel qui si sana, si giri e proceda dritto sotto l'arco. Troverà un cartello con una freccia che indica la direzione per l'hotel. Se le serve una mappa, può trovarla nell'ufficio a fianco. L'avete capito? Proprio la voce della signora, eh? No, no, ma è lei, segna tu. No, segnatevelo, che è importante! Ma non abbiamo ancora questo niente. No, la signora già sapeva. Non sta leggendo. Hai sudoku? Raga, volete qualcosa? Mi sono già persa pure io. Aiuto! Raga, volete qualcosa? I giornali costano tutti uguali. Ci sta... Ma perché stanno in tedesco, scusami? Ma stiamo a Capri? Ci sta un arco, cioè sta sotto... Ah, dobbiamo passare sotto un arco. Ciao Camu! Dobbiamo passare sotto un arco a destra. Credo. Da quello che ho capito. Poi c'è la fantasia enigmistica, ma non c'è la settimana. Signora, ma lei non ha la settimana enigmistica? Che cazzo vuol dire? Ma scusami... Enigmistica per ragazzi? Ce l'avrà a Topolino? Daglie! Ci sono tutte le lingue. Ma serio, Camu? Ma non sapevo? Facciami sudoku. Fantasia enigmistica, la prese. Raga, ok. Allora, un fantasia enigmistica, un relax. E io direi anche Tommy e Oscar. Perché non ce lo facciamo mancare. No, c'è Tommy e Oscar. Vi piace? Vogliamo Topolino. Ma non lo vedo! Io voglio il relax. Io vorrei il tempo. Panorama e l'inserto wink wink. Ma smettila, non fare lo sporco. Voglio il cioè. La signora non ce l'ha il cioè. Però c'ha... Ma che riviste sporche? Ma ma cabri? Ma dai! Andiamo a chiedere la mappa, va? Che serve la mappa? Credo che... La signora ha detto che qui dentro c'è. Sì, sono stata. Camu. C'è un vlog su cabri. C'è un signore dietro la signora vestito in bianco. È vero! L'avevo visto. Ecco la mappa. Buone vacanze. Potete notare i cabri della signora che non sono photoshoppati. Non sono assolutamente fatti apposta per attaccarli su. Sono assolutamente fatti a qualche accoglienza. Ecco la mappa. Buone vacanze. Sono stato a capo. È lo stesso? Ma sì, va bene, è lo stesso! Ma neanche col cellulare. Vabbè, prendiamo la mappa, va, raga? Che qua è un attimo. Oh! Che bella mappa! Con questa mappa capiremo tutto il capibile. Che bella e luminosa. È una di Twilight. Comunque lei è vero, esce da Twilight. Mamma santa! Ma con la stessa voce dell'edicolante. Vabbè, saranno sorelle. Che possono essere parenti, eh? Hanno un'allegria nel dire le cose per già di quanto avevano le ore. Vabbè, noi andiamo avanti, raga. Allora, a quanto pare dobbiamo andare sotto l'arco. Che è questo. Andiamo avanti. Ci sono delle indicazioni. L'hotel Quisisana è a destra. Però c'è anche il ristorante Faraglioni. Sì, è vero. Il becchino di Mad Dog. Mannaggia. C'è l'hotel Sairina, però non ci interessa perché noi dobbiamo andare al Quisisana. Il ristorante Il Geranio, il ristorante La Terrazza e poi Shalapopo, gastronomia e tavola calda. Ricordo l'aggiornamento di Yucali a questo cartello. È vero, io me lo ricordo ancora. Ah, guardate, ragazzi, vi potrei portare io. Allora, qui possiamo vedere che vendono dei liquori di capri, però non comprate niente. Qui, io vi posso dire una cosa aggiuntiva. In questo punto, qui c'è una gelateria. Si vede un po' la vetrinetta del gelato? Chi è? Blu Scarfo! Vabbè, tornaos! Ciao, mi chiamo Pirpillo. Sono nuovo. Mi saluti? Grazie per tutto il pesce. E salve Pepsomani. Scusi, ma lei chi è? Ovvio, sono il preside di Balamv. Blu Scarfo, posa il vinello. Ciao, Spritz! Siamo appena arrivati a Capri. Stiamo andando a prendere posto nell'albergo. Va bene, Blu Scarfo, posa il vinello. Stai calmo e posa il vinello, Blu Scarfo. Un cono da 30 euro. Allora, qui c'è una gelateria dove io e io cugina ci mettiamo poi sulle scale per mangiare il fatto apposta, per mangiare il gelato. Quel gelato ci è costato carissimo, veramente carissimo. Maklonoa! Che regala a Kamuna Sav e lo fa tornare nel fantastico mondo dei Pepsomani. Lo hai fatto tu? No, Elbo, ma ti pare? Questo l'hanno fatto degli artisti veri? Mica io. Sì, mi pare 6 euro. Io lo pagai, mi pare, o 6 euro o 8 euro. Non ricordo quanto lo pagai. Però costava più di un gelato normale, mordarci l'oro. Vabbè, ma sto qui si sana? Vabbè, ma quanta folla! Sì, ma troppo! Oddio, ma questo teneva la ma... No, no, voglio andare indietro! Che è tosta folla? Magari era una processione. Ma scusami. Sì, sì, Skeller, quella. Ma scusami, ma 8 euro per un cono? Sì, zero, ma tu non hai idea. Cioè, noi siamo state 24... Io e io cugina siamo state letteralmente 24 ore a Capri e abbiamo speso una roba come 250 euro a testa per mangiare una sera. Stop. Ma manco. per prendere un gelato e un drink una sera. Va bene. E pagare, ovviamente, la camera. Stop. Però quello... Scipiamo le signore. Andiamo avanti. E qui sento un morborio, un chiacchiericcio generale. Fammi andare avanti. Fammi vedere un po'. Brioni. Vabbè. È il qui si sana, questo! Amici. Camo, guardate il vlog. Sta su Discord. Non ti dico dove siamo stati perché non è che Modovozzo fa tutto viaggi di Capri. Amici. La musica si inquietisce. Tutto si infittisce. I misteri cominciano a misterare. Il vortice spazio-temporale. Per informazioni rivolgersi in piazzetta. Albergo chiuso. Cazzo. Ragazzi, hanno chiuso l'albergo. Ma è finita? No, dai! È successo qualcosa. Gli effetti speciali. Avete visto? Questa è grafica dall'avanguardia. Vabbè, allora dobbiamo tornare indietro. E andiamo indietro. Andiamo in piazzetta a chiedere. Raga, mi sa che oggi non si alloggia il Quisisana. Addio caparra. E invece hanno scippato pure la caparra. Signora? Ma come, Raffè? Non lo sai? L'hotel Quisisana è chiuso da due anni a causa della guerra. Guarda che ti sta cercando Saporito, il fruttivendolo. Ha detto che se scompare un'altra volta si cerca un altro garzone. Ora, porta questo giornale al banchiere Conquibus in via Occhio Marino. Fai presto, che il banchiere deve uscire. No, no, scusate, mi sono persa perché stavo leggendo Tore. Vero, Tore? Ma non sono Raffè. Adesso siete Raffaele. Va bene? Saporito dei flashback di guerra. Raga, a quanto pare siamo Raffaele. Raffaele. E c'è la guerra. Posso andare dalla signora? Magari la signora... Signora? No, la signora nel frattempo ha fatto i soldi e si è presa il cappotto. Cazzo è vero! Signora! Signora! No! È vero! Ha fatto i soldi lei! Si è fatto il cappotto tipo di lino. Non di lino, proprio di ciao Giada! La guerra dei che? Non lo so. Leggiamo subito le informazioni sul giornale. Esaminiamo. La monarchia. Caprillo V tratta la tregua. Nell'interesse del turismo di tutta l'isola. Solo per i tre mesi estivi. Cosa? Ah, no! C'è la Dragon Ball GT della Di Agostini con le statuette a 3.000 lire. Vabbè, ma quella è perché la guerra. La guerra ti porta via tutto. Ma non ti porta via Dragon Ball. Fa bene. Gravitiello misteriosamente scomparso. Ipotesi di rapimento da parte dei sicari di Anacapri. Esposizioni internazionali di che? Dell'umanità. La plazza? L'imperatore di Berio a Capri. La repubblica di Anacapri. Au, au, accetterebbe. Ok. Mannaggia, non so leggere. Che stile è la statua. Madonna mia. Aspetta, limitamente alla zona dei faraglioni. Inaugurate le comunicazioni interdimensionali. Ma noi siamo avantissimi. Avevo letto sciari e non sigari e non capivo. Allora, io penso che quindi abbiamo visto il tutto. Ok, perfetto. Abbiamo anche la mappa più mappa. Questa è tutta Capri. Abbiamo la nostra ricevuta. Raga, ma noi avevamo la ricevuta. Camera doppia, uso singolo, lato parco. Signor Pepsomani. Ma cazzo, ci hanno scammato. E niente, ci hanno scammato, raga. Che abbiamo più? Abbiamo altro? Ah no, questo è il nostro biglietto. Però abbiamo dei soldi. Abbiamo 100 euro. Male non fa. 2011 me lo ricordavo diverso. Non siamo più nel 2011. Abbiamo anche una carta di credito. Guarda là. Raga, fatto. Stop. Abbiamo pagato con Paypal, ma che ne so. Vabbè, allora ci cerca Saporito. Raga, andiamo a cercare Saporito. Allora, eh, mo bei cazzi capito dove stava Saporito. Pronto? Allora, Saporito era un fruttaiolo. E qua? La fe, ma adesso siamo uniti. Sono 30 anni che Saporito sta a via parroco Roberto Canale. E' proprio qui vicino. Ah, via parroco Roberto Canaro. Allora, signore, scusatemi. Non volevo interrompere questa giocosa ambientazione. Ri, Roberto Canale. Allora, noi siamo qua. Ah, Roberto Canale, non Canaro. Ok, lui, io che le sarà tocca a Photoshop. Dove? Cazzo me. No, dai, ma non sono Photoshopati. Questi sono veramente nelle cascette. Ricordiamoci il giornale al banchiere. Dovevamo portare il giornale al banchiere? No, aspetta, mi sono dimenticata. Ciao, morri. Buon pomeriggio. Aspetta, scusa. No, non siamo in vacanza. Perché a quanto pare siamo Salvatore qui. Siamo Raffaele. Vabbè, andiamo a via Roberto Canaro. Perché tanto comunque qui dovrebbe esserci il nostro signore di fidu. Maronna Rosto, aspetta, fermi, mi sono persa. No, ho sbagliato. Mannaggia, ho sbagliato turnicazione. E' di qua. Eccolo! Signore! Raffaele, Arostia, è passata tua madre e ti ha lasciato questa cartolina. Ok. La devo prendere? Ok, questo è il nostro capo. Un gulo. Stanno messi proprio bene. Vessuto dal benzinaio. Ma è un fruttarolo. Raga, prendete... Prendete no. Io allora, io mi ricordo che lui adesso ci dà delle quest. Però, sono quest difficili. Quindi, prendete nota, per favore. Io mi scrivo le cose. Quindi, Fermi... Stagia Briago. Per due euro la Sprite. Eh, raga, ma stiamo a Capri. Eh, frutta verde, verdissima, senza piombo. Allora, questo è un problema. Ma scusa? Va, prendete no. L'ingegner Fermino invia Arco Naturale. Ho telefonato a mio fratello Catello e gli ho detto che ti deve lasciare una chiave. Chiave? Dietro al cancello di casa mia. Con la chiave puoi entrare nell'orto di mio nipote Costanzo, guardiano di Villa Belvedere, che ti darà i pomodori. Ora, vammi a prendere un mazzetto di rughetta. Eh! Lo troverai vicino alla Villa Malaparte. Vai anche dal pasticciere, che ti deve dare una commissione. Poi, vammi a prendere un bottiglione di vino. Cacca da cosa! Adore, avvia Belvedere Cesina. Oddio. Può ripetere la prima? Belvedere Cesina. Cos'era Belvedere? Bottiglione? 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 Uh! 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 Allora, dobbiamo andare. Ci pagano? Spero di sì. Allora, fermi. Abbiamo ricevuto una lettera. Quindi, esaminiamo. From Anacapri with love. C'è una chiave dietro al cancello per poter entrare da qualche parte. Martina! Ben tornata per due mesi! Ciao a tutti, sono passata per un saluto. Venga, venga che la corto a Capri! No, dai, aspetta, mi sei bloccato il tablet! No, è importante! Allora, dobbiamo andare all'arco naturale. Per andare a parlare con Firmino. Non so chi sia, il polpo? Forse. Non abbiamo ancora gli euro in tasca, ma le cose sono il lire. Ma Fermi, non fa niente. Forse perché siamo ritornati alle lire. Anna what? Anacapri! Poi, la chiave del cancello apre l'orto di Costanzo a Villa Belvedere. Dobbiamo prendere poi la rughetta a Villa Malaparte. Ma l'ho scritto veramente col culo. A Villa Malaparte, credo. E poi dobbiamo andare dal pasticcere. E a Via Belvedere Cesina c'è un bottiglione di vino. Va bene? Ciao Artorias! Maronna, santissima. Caro Raffaele, sento tanto la tua mancanza. Quando finirà questa stupida guerra? Baci, 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 tua Carmelina da Anna Capri. Ah, ma è la nostra fidanzata. Ciao Samu! Buon lavoro! Ma quindi è la nostra fidanzata? Fermi! Ma siamo Raffaele? Siamo Raffaele? Sì, siamo Raffaele e Nannini. Non siamo ancora Raffaele. Siamo direttamente... Ma non era nostra madre. Oddio. Tua Carmelina sarà la mamma? Allora è la mamma? Che... Oddio. È un po' inquietante se mia mamma mi scrive baci, baci, baci. Così che mi manca quando finisce la guerra. Vabbè. Ok. Raffaele. Ok. Signore, i soldi? Lui è rimasto con la mano così. Vabbè. E allora io vado... Andiamo ad esplorare. Perché suppongo che adesso dovremmo fare le nostre quest. Secondo voi? Eh ma io, raga, non vedo un cazzo qui. Dov'è Villa Belvedere secondo voi? Vedete Villa Belvedere? Giardini di Augusto? No. Secondo me dobbiamo prendere la mappa grossa. Esamina. Allora. Villa Fersen è qua. Dov'è Villa Belvedere? Ma io non la trovo. All'orto di Costanzo. Ciao, Cruella! Io vedo via... Dove... Dove, Irene? Faraglione? Ma porca Eva. Non vedo. Non vedo. Vito! Che intanto ci manda i suoi sit. Ma ciao amici, buon poeriggio, benvenutissimi. Buon martedì, sono più cari e faccio cose. Vedo gente e in questo momento vi sto portando in giro per Capri. Con il grandissimo gioco proveniente dalla S e G, credo. No, non mi ricordo. Vabbè, quelli, i Savarese, i Savare qualcosa che ci hanno portato. I Misteri di Capri 2, Anacapri The Dream, ma questo in particolare è un tranquillo weekend a Capri. Il gioco che ha creato tutto l'hype che poi ha spinto i nostri grandissimi sviluppatori a produrre altri due giochi. Questo è l'inizio di tutto. L'inizio di qualsiasi storia. I fratelli Savoia. Io vedo solo Villa San Michele. No, noi dobbiamo andare a Via Belvedere Cesina. No, raga, fermi. Vedete Via Belvedere Cesina? Irene, dove l'hai vista? Madonna, io non vedo. In alto. Ah, ok, ok, ok. Via Belvedere Cesina c'è il bottiglione di vino. Andiamo a prendere il bottiglione di vino. Quindi dietro front. Villa Malaparte in basso a destra nella mappa grande. Villa Malaparte. No, mi serve anche Costanzo Belvedere. Però. Allora, Villa Malaparte dov'è? Fammi vedere, aspetta. Fermi, fermi, che io devo raccapezzarmi qua, che è un casino. Vediamo la mappa di Capri. Allora, in basso a destra nella mappa grande. Ah, Villa Malaparte. Eccola qui. Ma va a fanbagno. Ok. Qui dobbiamo andare in basso a destra. Cominciamo ad andare dove dovevamo andare prima? Mi sono dimenticata. Allora, guardiamo un attimo la nostra mappa. Noi dobbiamo salire verso via Belvedere-Cesina. Quindi diamo dritto. Perfetto. Di qua, di qua, di qua, di qua. Ma non è che qua si può entrare da qualche parte. Io mi ricordo che c'erano delle infilazioni. No, sto tornando indietro. Aè, mi sono persa. Aè, mi sono persa. Mi sono persa, amici. No, siamo ritornati dove stavamo prima. Ma va a fanca... Pronto? C'è l'ho un caciocavallo fresco. Costa dieci caprini. Signore, io ho... Nonna mia, ma lui che cos'è? Un tizio della... Vabbè, ma che sono sti sordi? No? Non accetta euro? Ma vabbè, dai, c'è il cambio! Scusa, la moneta nazionale è il caprino. Io anche sono... È un tizio della Foot Locker. Signora, i limoni, signora! Non gli posso dare la carta di credito? Ma quando mai ho vinto con le carte di credito? Vabbè, però classico. Ma scusi, il post! Adesso tutto si paga col post. Che... Eh, eh, dai! Gli do... No. No, lui non accetta. Senza scontrino, senza niente. Voglio il cartonato. Ma come vuoi il cartonato? Oh, raga, però c'è la Nutella. Ciocchini! Oddio, voglio questa roba, i ciocchini. Oddio! Voglio! Che dolore! Che male! Vabbè, raga, ritorniamo in carreggiata. Basta, lui voleva qualcosa. Ma qui dentro? Ah, è un fotografo. Però non c'è nessuno. È un fotografo senza foto. Ok, va bene. Non abbiamo bisogno del fotografo. Abbiamo bisogno di entrare qui dentro... Pronto? Ho rubato della colla. Ciao, Raffaele. Hai visto? Guarda che mi hanno portato. Invece di pensare ai fatti più importanti, gravitirlo, ha costruito stu'coso. Si chiama trasformatore narcisistico di oggetti. Pseh. Piegliatene pure uno. Ce ne stanno altri duecenti in magazzino. Gratis? No, perché io non ho caprini. Un fotografo senza foto è anche detto occhialista. E non abbiamo preso il caciocavallo. Ho capito, raga. Ma non è colpa mia se non ho il caciocavallo in mano. Cioè, non ho i caprini. Non ho i soldi. Per poter fare le... Vabbè, io ho rubato delle cose. Questo mi pare mio zio. Ma come? Allora, dobbiamo salire a sinistra. Quindi se ci giriamo... Non posso salire di qua. Vabbè, vaffanculo. E se vado di qua sto scendendo. Io non devo scendere. Devo salire. A sinistra di qua. Posso salire di qui? Forse sto andando. No, no, no. Non devo tornare indietro. Devo andare avanti. Gesù Cristo. Madonna, io questo jump scare me l'ero ricordato. Cioè, me lo ricordavo, però me lo sono dimenticato. Che paura infinita. Che paura infinita. Madonna mia. No, vabbè, signora. Io non so chi sia lei. Non so che cosa voglia da me. Però arrivederci. Grazie. Io vado via. Basta. E' scema quei. Voleva già scherare fortissimo. Credo di che stiamo andando verso la strada giusta. Dobbiamo salire verso sinistra. Va bene. Stiamo andando, eh. Raga. Chi è la signora? E' Richard Benson. Qui c'era una lampada. Io rubo tutto. Raga, io rubo tutto. Nel dubbio rubo. No, no, no. Torna indietro. Nannini. Raffaele, a due stili. Fammi il piacere. Vai da mia nipota a Villa Iole. Portalo un caciocavallo. I soldi per il caciocavallo stanno nella lanterna. Fuori la casa di zio Pasquale. Presa! Fatto! Abbiamo i 10 euro per il caciocavallo. Va bene. Bravi. Mamma. Mamma, sei tu? Mamma. Mamma, ascolta. Ma solo 10? Ma perché glielo devo portare io il caciocavallo a mia cugina? Ma io non ho capito. Wow. Abbiamo i 10 caprini, amici. Siamo già ricchi. Possiamo già fare le follie. Suona gli altri. Non posso. Posso suona soltanto a mia mamma. Allora, io mi ricordo che qui c'è una roba insidiosa, del tipo che, nascosta tra queste robe, ci dovrebbe essere un oggetto importante che devo prendere. Guarda che bei limoni. E prenditene uno. Così, a caso. Raga, vi servono dei limoni. No, non lui. I soldi nella lanterna, un classico. Che fai, te ne privi? Signora, i limoni, signora! Ma poi hanno letteralmente preso una foto di Capri del palorama e ci hanno messo scontornato sopra un signore con dei limoni in mano. Guarda! Un signore con dei limoni in mano tutto scontornato. Guarda, guarda, guarda! Qui si vede evidentissimo! Evidentissimo! Vabbè, signore, si pulisca i piedi. Limoni con firma. No, basta, gioco dell'anno. Ah, eccolo! Dovevo prendere questo. Trovato, fatto. E credo che qui abbiamo finito. Pronto, la stella del mare. Dovevamo andare alla stella... C'è qualcuno? Qui c'è gente che ti regala tutto e altri che ti chiedono 10.000 per un casciocavallo. E lo so, alcuni sono generosi, altri no. Non risponde nessuno. Vabbè, allora io vado avanti. C'è Villa... Villa Belvedere! Dovevamo andare a Villa Belvedere? Ah, la chiave del cancello dell'orto di Costanzo. Pronto? Costanzo? Costanzo? Però mi serve, secondo me, la chiave. Che io non ho. Mi serve la chiave, raga. Eh, mi serve la chiave. Sì. Non si ruba, non ho fatto nulla. No, mi serve la chiave per la Villa di Costanzo. E vabbè, ho capito... Dove mi sto sbarcando io in questo momento? Aiuto. Siamo al 45 di Selvaggi. Lionessi. Dove sto andando? Oddio, no, 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 no. Ci stiamo sperdendo nelle fresche frasche. Aspetta. Fermi. Fermi un attimo. Ciao, i perversum! Buon pomeriggio! Allora, torniamo indietro. Sei già sveglio? Pure dormi! Ciao, Gerberos! Una chiave dietro il cancello della casa del fruttivendolo. Eh, ho capito. Il problema è che non so dove sia casa del fruttivendolo. Il fruttivendolo è uno stronzo. Non mi ha detto dove abita. Quindi non lo so. Raga, vogliamo andare a fare la quest del caciocavallo? Tanto sappiamo. Mamma! No, non risponde più mia mamma. Che c'è, sa pure lei. Ma dico io. Eh, mo' dove era il caciocavallo? Dobbiamo ritornare in città. Allora, per tornare in città dobbiamo tornare di qui, scendere giù, credo, non lo so. Il caciocavallo è bellissimo. Eh, raga, ma serve tutto nella vita. Serve anche il caciocavallo. Io mi ricordo che qui c'era un... Ma c'è ancora? Ok, la signora non c'è più. Il jumpscare non c'è più. Meno male. Madonna mia. Mi sono preoccupata tantissimo prima. Io mi ricordo che qui ed intorni c'era qualcuno da cui dovevo prendere delle cose. Signore, eh? Ma perché spariscono tutti dai propri negozi? Ciao Bruce! Ciao Baby Moon! Il gioco è questo? È certo che sì. E noi siamo stati trascinati in un posto che non ci compete. In un posto che non sappiamo che cosa sia. Che posto sia? Chi è? Simone! Dove siamo? Che posto è questo? Mini club? Centro congresso? Parco, flora? Iperversum che torna nel fantastico mondo dei pepsoni! Grazie a Simone che le regala una sub! Ma salve! Venter Nass! Poi paghi il caciocavallo in caprini! È bellissimo questo porborato di formaggio, è vero, eh? No raga, io qui dentro non ci entro, ho paura. Dai, vi prego, dov'era il caciocavallo? Maroma, perché maggio aversa? Aspetta. Io lo sapevo che non dovevo seguire le direttive. Dove posso andare per prendere un caciocavallo? Forse di qua? Chi è? Ma Simone! Che regala una sub anche ad Alexa! Che quindi torna nel fantastico mondo dei pepsomani! Grazie mille! Dov'è il caciocavallo, amici? Io mi sono dimenticata... Signora? Raffaele, se ti serve qualcosa, perché non vai da Saporito? Ah, che si giovane d'oggi! Signora! No! Non... Perché capisco perché il cugina stava ucciso a seguire le tue indicazioni. E ho capito, ma guarda che è difficile! In via Sopramonte! Ma forse lo devo chiedere al Saporito? Se c'è... Un saluto a Padre Pio! C'è la Padre Pio? Aspetta! Voglio tornare indietro! Allora, Saporito! Raffaele, capù! Non vedi che io sono occupato! Si vede, occupatia! Un altro Padre Pio! Scusami! A voi perché ha attaccato la Coca-Cola? L'etichetta della Coca-Cola al muro? Ma che accozzaia di roba c'ha? Oddio, i santi, le nipoti, lui coi figli! Ma che è? Che cos'è? San Gennaro! Tutto! È un accozzaia di roba! Io non so più... Saporito! Senta! Le posso dare della colla? No! Ti posso dare la mia carta di cre... Mi puoi cambiare questi soldi? Non mi cambia! La licenza! Ma la licenzia! Che gli posso dare? Qualcuno? No, non gli posso dare niente! Vabbè, Saporito! Ma sei inutile! Ma Tom & Jerry... Ma manco! Il Tom & Jerry pezzotto! Allora, forse era qua? Forse era qua? No, non era qui! Era... Oh, il cracchio! Cracchio! Quello sono io quando aspetto la live della Yucali! Ma scusami, è tipo di Tom & Jerry! Ciao, Pantaleo! C'è la concorrenza, e lo so, ma lasciali sta... Perdoniamoli per quello che non sanno! Allora, io mi ricordo di aver fatto questa strada! Poi... Sono andata... Di qua? No! Non sono andata di qua! Sono andata di là! Oh, cazzo! Ma dov'è? No, questa è la strada... Oddio! No! Qui... Allora, ragazzi! Qui è dove io avevo la casa! Dove io e mia cugina abbiamo preso la casa! Ma che sto a fare? Il bello viaggio turistico, seriamente! Capriart Gallery! E... Forse devo entrare qui... Pronto? Pronto? Questo quadro non è dipinto su tela, ma su una vecchia porta di legno! Molto originale, eh, Raffaele! Sì! Ciao, cucco! E quindi? Va bene, signora, arrivederci! Non ho capito... Non ho capito... Per cosa... Perché cosa sta succedendo questa roba? Per quale motivo mi sta succedendo tutto questo? Oh, io vado avanti... Ne compro otto per tutti i miei amici! Mi raccomando, regalate anche voi! Ma che cazzo te lo ha chiede? Non lo so! Questi ogni tanto prendono e parlano a caso! Forse devo andare qui? Effettivamente io mi ricordo... Oh, una madonna! Però la posso toccare! No, non si fa niente! Casa Silvana! Un saluto a Silvana che ci segue sempre! Io sto salendo a fanculo, raga! Ma dove sto andando? Ma dove sto andando? Ma io mi sto sper... No, raga! Ma io mi sto sperdendo! Perché sto toccando dei luoghi infiniti? Sto andando in qualche direzione giusta, vi prego! Pizzeria Bel Sito! Ma dove siamo? Allora, aspetta! Però forse possiamo andare a Villa Malaparte! Se andiamo a destra! Sì, uso la mappa! Possiamo andare a Villa Malaparte! Forse! Non so per quale motivo dovevamo andare a Villa Malaparte! Però noi andiamoci! Che ce n'importa! Qua c'è qualcosa che devo vedere! Eh, belli sti fiori photoshoppati! Guarda lì! Ma perché? Perché solo questo c'è spuglio photoshoppato? Ma lascia la foto! Ma per quale motivo? Ciao Alexis! Buon po' e riggio! Per quale motivo? Vabbè, io vado avanti! Arriveremo da qualche parte, raga! La madonna! No! Continuo di qua! Aspetta, vedo la mappa! Eh, se vado sempre dritto vado a Villa Malaparte! Io vado a Villa Malaparte! Raga, per me è fatta! Oddio, i cani che abbaiano! È come i cani che si abbaiano! Stiamo andando bene! C'è un coltello, lo prendo! Mi può servire? Ciao, freni! Allora, siamo appena arrivati a Capri e siamo teletrasportati in un continuo spazio temporalibus in cui adesso non siamo noi, ma siamo... Facciamo i ravioli alla Caprese, facciamo la parmigiana di melanzane, il pollo cotto sul forno delle pizze, è un ambiente familiare. Facciamo tutto da noi qua, tutto nella roccia, tutto naturale. La braccia è accesa! Signora, grazie! Ma io posso mai entrare in un posto e sentire la signora che mi parla? È gigante! Oppure il posto che è piccolo? Per quale motivo io devo vivere questa vita? Grazie, signora! È sparita! Bravissima! Grazie, signora! Allora, prendo la Caprese... Devo prendere qualcosa? Non lo so, non lo so. Chi era? C'era un vecchio! Signore! A Re Caprillo V piace molto venire in questo ristorante. Ma che sta facendo lui? Che è sto rumore? Signore! È entrata nel forno? È sparita? Non lo... Grazie per la recensione! Non è che devo prendere qualcosa qui? Non mi ricordo, amici! Boh, c'è una leparella! Io vado avanti! A questo punto penso che mi metterà a urlare se sei da qualcuno che fa bordello! No! Limi! Ma allora! Allora! Ma raga, non dovete ridere! Quanto ci siamo persi! Vi prego! Dritto, forse a destra! Destra poi, avvocato! Sinistra! Forse è qua che si va a villa! Quella dietro villa! Ok! Se io scendo di qua... Posso forse raggiungere il posto? Una patata per il corvo! No! Basta con ste patate! Fermi tutti! Capisci quanto è realistico? Così sento il dolore di arrivare a capri! Di farmi capri a piedi! Mamma? Mamma? Cosa sono... Eeeh! La musica! Aiuto! Che dolore! Vedete lo sforzo di arrivare a capri? È un grande sforzo, amici! Ma qualcuno doveva pur farlo! Dove sto andando? Vi scendo? Raga, io continuo a scendere! Vado avanti! Sì, ma quanto è grossa, capri! È tutto scale a capri! Ma tu non hai idea! Io lo so! Perché ci sono stata! Sì! È traumat... Fidati che se vuoi fartela a piedi è traumatico! È più facile che ti tagli tutto! Ti tagli le dita dei piedi! Ma dove cazzo sto andando? Siamo a Villa Villa! Oh, per me siamo a Villa! Cos'è? Cos'è questa roba? Esamina! Conta digitale vocale Giacomo Limbo Nato a Capri Il 29 giugno 1973 Residente in La Quercianella Ok Chi torna indietro? Eh, c'ha ma fa pera, raga! Abbiamo trovato un... Quindi dei documentos Ok Però arriveremo a Villa Villa Vero? Vi prego, ditemi che siamo a Villa Villa Forse di qua si scende a Villa Villa? No! Però c'è la rughetta! A Villa Malaparte! Yes! Yes! Prima questo fatta! Yes! Fatto! Fattissimo! Bravi! Bravi tutti! Quindi non serviva andare a Villa Malaparte Ma serviva letteralmente passarci per poter... Prendere... Ma io voglio vedere Villa Villa Ma come ci vado a Villa Malaparte? Bravo Caccio! Così a caso? Che brutte condizioni aveva quella rughetta Vabbè, ma mica ce la dobbiamo mangiare noi Dobbiamo andare a quel bastardo disaporito Poi sono cazzi suoi lì che cosa ci fa C'è qualcosa che devo vedere qui? No Vabbè, ne vado avanti Oddio Devo... No, no Però noi torniamo Facciamo una cosa Noi abbiamo Abbiamo un Un checkpoint Abbiamo un Un teletrasporco Quindi Ritorniamo al centro Fermi Andiamo a portare la rughetta assaporito Che è l'unica cosa che abbiamo fatto finora Quindi io direi Che quantomeno Signora? No Sono andate via pure le signore Ma allora Invia arco naturale Ma io non so qual è il mio arco naturale Eh Signore Tieni Raffaele va bene Mo dirò dieci caprini Ah Ma mi paga Oh Ma allora è svoltato Ma adesso abbiamo addirittura venti caprini Ragazzi Abbiamo venti caprini Ma non sappiamo dove cazzo sia Il posto dove dobbiamo prendere il caciocavallo Dai vi prego Ma era qui E' qua? Raffaele Si è uscito finalmente Non ti sei fatto più vedere Dobbiamo preparare una torta caprese Metti gli ingredienti principali in questo scatolo E portameli al più presto Sì a parte il fatto che fa degli sporchi Ma basta Calmi Ma è solo una signora pasticcera E dai Chi è sta buba? Sofficino Allora Beh non ho capito Scatolo Prendo Lo scatolo E vabbè Ora con venti caprini Possiamo aprirci un'attività di caciocavallo E risolto il problema Abbiamo trovato la pasticceria Ma non Il Nia ma io penso che comunque qui ci sarà un caciocavalliere Eccolo Eccolo Maronna Signore L'ho cercata in lungo e in largo Signore In lungo Dove sono i miei caprini? Uso Ecco di servito Mamma santissima Ciao Raiku Preso E' nostro Dove era il caciocavallo? Dove lo dovevo portare il caciocavallo? A Villa Iole Ma ancora a B Ma no a mani nude Si porta Perché quello deve essere rozzo Il caciocavallo Dalla cugina Sì Ma la cugina abita a Villa Iole A rossa sta Villa Iole Aspetta fermi Controlliamo la mappa Villa Iove Non Villa Iovis Ma Villa Iole E dove cazzo è il Villa Iole? Ma se lo appendi al collo E' la cartina del tutto città Villa Iovovic Sì dobbiamo portarla a Iugugina E dov'è Villa Iole? Iole Serve Allora aspetta fermi Magari qui c'è scritto Perché c'è occhio marino Giardini di Augusto Punta di cannone Piazza Santo Ste Ma non mi hanno dato un San Michele la Croce Eh Matti Se voi lo potete trovare Tranquillo No non è il Villa Iovis È Villa Iole È proprio Villa Iole Chiedi al bar Ma vi pare che secondo voi ci dicono Dove sta Ciao Sganasciun Vi pare che ci dicono dove sta Allora raga Dobbiamo poi andare A casa del signore Del Di sporco Come si chiama Saporito Saporito dove abitava? Mi sono già dimenticata Chi era? Chiedi a un passante Ma non ci sono C'è la guerra La guerra La guerra ti porta via tutto Ehm Ehm Kixotic Dov'era il Saporito? La casa saporita Raga io vado a cazzo di cane Io penso che comunque Nella vita Signore Mi può dire dove sta Casa sua Perché non mi dice le cose? Cioè per quale motivo io devo soffrire? Per quale motivo? Forse salendo di qua? Pronto? Pigliati questi attrezzi Ti possono servire Vabbè Ma io sto qui Cosa ho preso? Ma perché mi possono servire? Esamina Un giravite Che dire Grazie Ciao Logan Gioghesser Sì esatto E una chiave in glia Ma poi fra l'altro Questa è La colla Citu Ok Trasformatore narcisistico di oggetti Via sopra monte A nord della città Annullo Che cosa è? Via sopra monte Ma lui è rimasto con le mani Ah siamo qua Siamo qua Fermi fermi Siamo a via sopra monte E ce l'abbiamo Pronto? Ma che ne devi fare? Se proprio la vuoi Te la posso dare Ne tengo un'altra Ma perché? Prendo la cazzuola? Eh la prendo Sì la prendo Grazie Io padre Robiamo pure gli onesti Ma che ne devo fare? Io me la prendo Prendo e vado avanti Grazie La spromamonte Siamo ad aspromonte Ma non trovo la casa Forse è qui in fondo No perché questo è sopramonte Eh No Non può essere utile Ma sì ma sto pigliando Tutti gli attrezzi del mestiere Abbiamo finito con la spesa Adeli abbiamo appena cominciato Con la spesa Sarà forse dall'altro lato Di sopramonte Magari è da quest'altra parte Di sopramonte Mai dire mai Mai dire sopra Magari è giù monte Non è sopramonte Ma io qua non vedo niente Pronto? Forse qua? Sarà questa? Letizia? No perché questo è il residence Letizia E non è Letizia Oddio Posso toccare le cose? Pronto? In questa casa Visse e lavorò Lo scrittore russo Maxim Gorky Dimorò Vladimir Lenin Fondatore dello stato sovietico Arrivarono molti elementi Rappresentanti della cultura mondiale Ma così è random Ma scusami Via sopramonte è lunghissima Eh ma io sto toccando Ciao Alex Buon pomeriggio Raga se vedete degli altri quadrati Ditemelo Io continuo a farmi via sopramonte Di qua allora Suppongo che sopramonto Pensione Bel Sito Magari di qua Sarà ancora sopramonte questo? Chi è? Che paura Cane del cazzo Pronto? È lei? Ma dove cazzo sto? Ah no ok sto salendo Salgo? Magari è qua? La chiave! Vai alla croce La fungine rossa Chiave! Presa! Fatto! Quindi adesso possiamo Andare Con la chiave A prendere i pomodori Vado a prendere i pomodori Beppe! Amici! Ma che è su del razzo? Pronto? Posso sbirciare? Ma che se ne importa Vuoi Un convertitore Di frutta? Questo è usato Te lo posso dare A prezzo stracciato Solo Dieci caprini Che poi allora Io lo prendo Convertitore usato Lo posso prendere Tranquillamente Dieci caprini Ma ce li abbiamo I soldi Tiè tiè signor Posso altro? Ma questa è una bancarella Appusiva Ma non è razzista Perché non parla Tipo con la L Parla in inglese E fa Vuoi un convertitore usato? Sono solo Dieci caprini Cioè Tipo razze di ganna Che sono solo Cazzi miei Per quale motivo? Non esiste Ma quindi è baratto Ma se Maga c'è una fu Vabbè signora Io quindi posso Toccarla di nuovo? No Non posso più toccare la signora Vabbè Allora se Se può Ma dove cazzo Sto andando? Raga ma dove siamo? Aspetta No aspetta Aspetta Ho sbagliato strada Eh no Ma man La maronna All'improvviso Hanno provato ad essere razzisti Ma non ci sono riusciti Di bere come La madonna Finita L'apparizione Va La luce mistica E per quale motivo Vedo la luce? C'è un motivo Specifico Per cui sto vedendo questo Ma Scusami Ma C'è qualcosa Ma perché i giardini? Ma perché mi devo guardare i giardini? La vocazione No non vado verso la luce Bopor Ma ti pare mai che suona così? Ma che è? Cos'è? Chi è che ha fatto la sgommata? È andato via Fantastico Vabbè ma questi comunque hanno fatto Della grandissima scienza Comunque Sti eventi che appena ti giri Succedono E poi non succedono più Sono cose che veramente Non trovate in nessun altro gioco Solo in Capri Dove cazzo sto andando? Sto andando alla croce? Ecco Per l'appunto Quello che è questo gioco Una croce Io continuo Da qualche parte arriveremo Cioè noi dobbiamo esplorare alla fine Cos'è la vita? Se non esplorazione Pronto? Ciao Raffaele Come ti trovo bello? Mamma come sta? Bello Ecco il catalogo che mi avevi chiesto Tutto a posto signora Mamma sta bene? Mi è andata a prendere il caciocavallo Per Per nostra cucina Cos'è questa cosa signora? Cosa mi ha dato? Ma che cosa hai fatto con Ma manco con paint? Ma questa è letteralmente Questa è letteralmente Word art? Come si chiamava? Clip art? Com'era? Quello di Word? Catalogo generale Invenzione del professor Consenzo Gravi Eeeeee Quanto? Vengono tutti dalla stessa scuola Di recitazione Di intrighi e passioni Oh Hanno studiato Le presentazioni per i bambini Allora Aspetta Convertitore di frutta Raga Questa roba potrebbe essere interessante Siete accorto della frutta Che desiderate? È domenica Ed il fruttivendolo è chiuso Il camion della frutta Dei vostri desideri È stato saccheggiato Dagli anacapresi Sulla via marina grande Nella solita azione di guerriglia Con il convertitore di gravitiello Potete utilizzare la frutta Che cresce spontaneamente O che è coltivata a capri E senza nessun compromesso Con l'ecosistema Se un frutto viene convertito Ne spunta subito Un altro uguale Sulla pianta d'origine Inserire i due frutti In ingresso E scuotere Il convertitore Per ottenere il frutto In uscita Esempio Limone più noci Uguale pera Secondo quale concezione? Cosa significa? Avvertenze e precauzioni d'uso Leggere attentamente le istruzioni Se c'è già il frutto desiderato Il convertitore Se lo prende Non ho capito? Il convertitore non funziona Se c'è un solo frutto in ingresso Non ho capito Alcune combinazioni di frutta Possono non produrre nulla In vendita in tutti i negozi Di cianfrusaglie Meno male che lo specificano Che è una cianfrusaglie Costa 40 caprini Sì ma perché Noi l'abbiamo preso usato Probabilmente il nostro è tarocco Sarà di wish Informatore turistico Viene costruito per la vendita Solo nel modello di esportazione Nell'isola ne esiste Un solo esemplare Donato dal prof gravitiero Alla comunità di Capri L'apparecchio è stato montato Nella grotta di Matermania Utilizzando così L'amplificazione acustica Naturale del luogo Ma che cos'è? Trimoni più noci pera Non lo so Voglio uscire a bere Voli di zia Hanno fatto sto gioco Quelli mi hanno pure scritto Quando il prof gravitello Inventò l'apparecchio Era stato appena Piantato in asso Dalla sua amante svedese Per cui aveva un atteggiamento Abbastanza nervoso Verso gli stranieri In assoluto Cosa succede? Pertanto Essendo gravitello Essenzialmente dispettoso E vendicativo L'informazione turistica Talvolta risulta Assolutamente incomprensibile Ma scusa Ma che cazzo c'entra? Faccio un informatore turistico Però poi Mi lascio Con la mia fidanzata straniera E quindi Do le informazioni A cazzo di cane In modo che tutti i turisti Non possano capire Più un'avanza Perché ce l'ho con lei Ma scusami Ma che cacchio Lo fai a fare? Ma non lo fare? Fai prima? Non lo fai più? E hai finito? Andiamo avanti Schiaccia e vinci Attenta la fortuna Con lo schiaccia e vinci Nel periodo di guerra In corso Tutte le monete metalliche Sono state sequestrate Dalla milizia Di Re Caprillo V Per fabbricare delle armi Va bene Senza monete I gratte e vinci Non si possono più grattare Il prof Gravitiello Ha inventato allora Lo schiaccia Con la gappa Però eh E vinci Basta premere i tasti Nell'ordine della combinazione vincente E si vince il premio Che appare direttamente Sul display L'apparecchio Si può anche riutilizzare Aumentando la possibilità Di vincita del giocatore Che con pazienza Desideri trascorrere Un certo numero di anni Per provare Tutte le possibili combinazioni Ciao Miriana Cosa sta succedendo In vendita dei tabaccai E nei bar Al costo di 5 caprini Ma quanta roba è Ma quanta cacchio di roba Ha fatto questo Ah questa ce l'abbiamo Colla invariante Temporale Interuniversale Indispensabile strumento Che serve a rendere Un oggetto identico In tutti i tempi In tutti gli universi La colla del tutto trasparente Va spalmata su una superficie L'oggetto che si vuole rendere Ma perché è così complicato Ma che è Ma che cosa Ma quanta roba ha fatto questo Anche la lampada abbiamo Sì fammi vedere Che è la lampada Di gravitello Dov'è Il rivelatore Di ricevitore Di onde gravitazionali Antenna per comunicazioni Via cellulari Tra universi paralleli La lampada Di gravitello La lampada Di gravitello Si è strofinata Invece del genio di Aladino Fa apparire Lo zio d'America Di gravitello Fa apparire Lo zio d'America Di gravitello Disposta Di salutare Tre desideri Lo zio d'America Comunque Non appare Se preventivamente Non gli si fa Un bonifico Bancario Di centomila caprini Per coprire Le sue spese Di viaggio Ma scusami E allora Che cazzo Lo faccio fare Ma me le pago io Le cose Scusa Ma non ha senso Modello Bagdad Con becco arcuato Per utilizzo Anche come Oliera Da tavola Ma cosa Sta succedendo Ma perché Ma vabbè Zio d'America Vai E Bello Stupendo Vabbè Signora Arrivederci Se io mi giro La signora non c'è più Madonna Sono tutti maghi Qui dentro Comunque Bravissimi Bravissimi Vabbè Bello Stupendo C'è un'altra statua Di cui io non mi ricordo Che dobbiamo fare con le statue Mi ricordo che dobbiamo fare qualcosa Con le statue Ma non ricordo cosa Vado avanti Amici Esploriamo un altro po' Che roba si fumano a Capri Ma roba Bella però Eh Beh Mi piace Chi è Trinchero Dovevamo fare qualcosa Con i trinchero No Boh Forse no Non mi ricordo Io ormai non mi ricordo Da chi dobbiamo andare Cosa dobbiamo fare Mi ricordo soltanto Che abbiamo una chiave Qua c'è qualcosa Bello l'imbuto Ma sì Ma sicuramente Devo versare il vino No Perché il vino Ancora non l'abbiamo preso Aspetta aspetta Qui c'era una casa Permesso Capri l'isola dei sogni Ma vaffan bagno L'isola degli incubi Vorrei dire Io non mi ricordo più Perché il citofono Ha degli imbuti Perché vi fa delle domande Cioè Da quando in qua Vi dovete fare le domande Dove siamo Ah Ma io sto andando verso Oddio No Mi ricordo Questa è Villa Jovis Raga Ciao Squall Pure ragione Eh no Villa Jovis Qua è dove mi sono persa Con Yugina Oddio Mi sto perdendo anche adesso Una madonna Perché guardo le madonne Perché Questa scena Non si sa Poi qui Apertura serale Ore 19 Ci servirà come informazione Ormai non lo so più Ormai non so più niente Non so per quale motivo Stiamo continuando Ad andare avanti Non so che cosa Ci sta portando Verso la follia Sto andando bene Dove sto Oddio Ah Qua è dove Aspetta 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 Qui c'era qualcosa Un pezzo di carta Guardiamolo Oh è Fatto Fatto Dove siamo La mappa Tu sei qui Ma sì ma non è giusto Basta non lanciarle le madonne Appunto Ok Quindi La pera E il fico d'India Danno l'arancia L'arancia E il fico Danno le mandorle Ah Questo serve per la torta Perché noi dobbiamo fare la caprese La caprese Si fa con le mandorle Quindi ci serve un'arancia E un fico E probabilmente il limone Con qualcosa Ci dà il fico Che io poi combino con un aran Non lo so Forse Non lo so Potevano scontornarli frutte Troppo complicato per noi I uomini d'oggi Qui posso andare da qualche parte No la strada è chiusa La strada è bloccata E la torta che serve E la pasticcera Ci ha chiesto di preparare una torta Ha detto Guarda che mi serve una torta Non lo so Io faccio quello che mi chiedono Amici Non ne ho idea Per il vino dobbiamo andare da Totore In via Belvedere Cesina Aspetta Pronto Ma io posso tornare a casa Se volessi farmi Oh Ok Fermi Totore a via Belvedere Cesina Troviamo Limone più noci pera Forse La combinazione del limone Non era nel catalogo Può essere Allora vediamo un attimo Via Belvedere Cesina Ecca sopra Ma la fangulo Ma io devo Farmi le scarpinate Sempre a piedi Ok Ritorniamo Però Noi abbiamo anche una chiave Dove aprivo la chiave Dove usavo la chiave Ci siamo andati prima Dove abitava mia mamma E dove abitava mia mamma Ma perché mi faccio le domande Perché sta succedendo tutto questo Allora Belvedere Cesina Stiamo andando Bravi bravi Fermi L'hai letto cinque minuti fa Logan Ma io mi dimentico anche come mi chiamo E tu mi dici Cinque minuti fa Sono già troppi Di qua Credo Stiamo scesinando Cesira Ok Stiamo cesinando Cesiro Cesina Cesia Ci siamo Andiamo a prendere prima le cose Del figlio Del nipote Di Serpeverde Lì Allora Andiamo a vedere Ma non è che qua devo bussare Pronto C'è qualcuno Non c'è Vabbè Io utilizzo la chiave Fermi Fermi che abbiamo la chiave Vado a prendermi Ecco di un pomodoro per mio zio Se va bene Poi gli mando tre cassette C'è tutto questo Ma non me lo potevi passare Dalle grate Ma coglione Ma me lo potevi passare Dalle grate Ti chiami sempre Katia E per il momento E che devo fare Col pomodoro E lui rimane con la mano Così tutta scontornata male Ma lui fra l'altro Con la maglia della diadora Forse il pomodoro Lo devo convertire Tutto in HD A parte sto tipo qua Ma questo secondo me È stato pre Ma guardate le righette Questo è stato preso Da una fotografia vera Di carta Avranno fatto Avranno scannerizzato Qualche fotografia di carta E l'avranno messa Sul computer Scontornandola Per fare Questo Probabilmente sarà Qualche cucina di terzo grado Che loro hanno scontornato Da qualche vecchia foto Lo devo portare Al fruttivendolo E la porta in faccia Assorata Ma dico io Vabbè E siamo arrivati A Belvedere Cesira Devo portarlo Al fruttivendolo Quindi torniamo in piazzetta È stato palesemente Photoshopato Che devo fare Perché lui deve avere Ma non capisco La rughetta L'abbiamo data Poi gli serviva Un bottiglione di vino Quindi Il cancello L'abbiamo fatto Aspetta Questo l'abbiamo fatto Cancelliamolo Il pasticcere L'abbiamo fatto La rughetta L'abbiamo fatta Mi serve Il bottiglione di vino Avvia Non ci posso fare niente Raga Se volete Stacco prima Purtroppo Stanno trapanando Non stop Fidatevi che Dà più fastidio A me Che a voi Il limone No Non vuole Ciao Frisco Grazie mille Per essere passata Se vi dà fastidio Stacco Non vi preoccupate Però purtroppo Stanno trapanando Esattamente Sopra la mia testa In questo momento Cioè Non ci posso fare niente Fidatevi che lo sento Molto di più io Allora Devo andare a vedere Se A Belvedere Cesira Ritorniamo a Belvedere Cesira Che Ormai la sto imparando A memoria Non è vero Mi sono persa Aspetta Belvedere Cesira Questa Allora Sì Devo salire a sopramonte Quindi saliamo a sopramonte Di qua Perfetto E mo Devo salire sopra Oppure dritto Dritto Perché si va dritto Catrano calcinà No Calcinacci no Unisci il limone Con il pomodoro Con il convertitore di frutta Va bene Allora Questo Aggiungi frutto Eh no Non va Limone E Come Come funziona No Non va Pera Abbiamo una pera Limone e fico Fanno pera Mi ero talmente abituata Che pensavo Facesse parte del gioco Raga Mi dispiace tantissimo Mi dispiace Veramente un sacco Fidatevi che Veramente io lo sento Cioè se voi lo sentite Un po' Io lo sento Quattro volte peggio Però che devo fare Non posso Salto le live Non posso saltare le live No aspetta ma qua Siamo a Belvedere Cesira Eh ok E siamo a Belvedere E dove sta sto bottiglione di vino Perché ha detto Va a me più a sto bottiglione di vino Via Belvedere Cesira E me io ci sto Signore Dove cazzo è Ma non lo trovo Vedete un bottiglione di vino Poi fra l'altro Te lo sarai fatto cadere Riprenditi il limone Wow Abbiamo un altro limone Abbiamo una pera e un limone Ehi attenzione Eh 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 Fermi Ce lo siamo fatti cadere Però che cazzo Non vi fate cadere il limone Ah mi prendo C'è un altro fico Io lo riprendo È bello Va bene Ok Magari qualcuno Prima o poi risponderà A questa po' Ma dove sta sto bottiglione di vino Ma sarà che devo andare qui sopra Magari questo lo tiene infilato da qualche parte No perché io mi ricordo che il bottiglione di vino Se non sbaglio Era in una casa Tutore dove sta Ma che ne so Il bottiglione di vino Secondo me era in una casa Io mi ricordo che era in una casa Che c'era un signore che ci diceva Ah Sto bottiglione di vino Vedete sto bottiglione di vino E E ci dava il bottiglione di vino Suoni e scappi Ma tanto non rispondono Ciao Ali Grazie per la compagnia Buon pomeriggio Però dice avvia belvedere cesira O così dice la guida Non so Ma il numero civico poteva darlo Ma che cazzo Io mi ricordo che era all'interno di una casa Questo ve lo posso assicurare Ah che bel panorama Questo ve lo posso assicurare Era all'interno Mamma Mamma Hai del vino Una porta Tratino vicino all'apertura Già provato Dove No no ma io vi ho detto È un posto Con un Un posto in cui si entra dentro Forse è qui Magari questa è belvedere cesira Pure questa Tutte le strade sono belvedere cesira Avanti fino alla porta di metallo verde Entra nella porta di metallo Questa No Ma dove siamo adesso Qual è la porta di metallo verde E non lo so quale sia la porta di metallo verde Aspetta aspetta Fammi tornare indietro È perché vedi C'è un venditore di vino E però dice che a belvedere cesira Dove Dove è la porta di metallo verde Vedete una porta di metallo verde Sempre da cesira Ok andiamo da cesira Fermi Io sto andando Sto andando eh Sto andando eh Tutti i testimoni La porta di metallo verde Oh Qui c'è una porta di metallo verde Sì E quindi Entra nella porta di metallo Eh ma non mi fa entrare Qua forse No Qua No Ma è tutto metallo Dice screen 9490 Oh cazzo Non siamo mai nel 9490 Ragazzi non siamo mai nel 9490 Ragazzi siamo a 25 Come 9490 Che vuol dire 9490 Aspetta 9490 No 37 70 Ora mi numero E' tutto verde E' tutto verde E' tutto verde E' 9490 Ma qua è 60 Quindi non Non sono manco ordinati Capri 9210 Dalla mappa Dalla mappa Sulla guida E' vicino a Villa Iove Iole Eh ma dove ci facci mai Villa Iole Benvenuti a Capri Eh raga ma qui non c'è Villa Iole Io non so dove sia Villa Iole E' quello il punto Che io non ho mai saputo Dove è Villa Iole Dove è Villa Iole I numeri degli screen sono messi a cavoli Non possiamo trovare una cosa Sì sì Riapri l'ho vista Dove No è Villa Iovis quella Aspetta Fermi Questa è Villa Iovis Non è Villa Iovis È Villa Iole Praticamente è una villa Con una targa In cui sta scritto Villa Iole Ed è alla fine di qualche strada Però non mi ricordo Ma non c'è nessuno in giro Nipote 29 Ritornare sul sentiero principale E proseguire fino al bivio Per via Belvedere Cesira E svoltare a sinistra Andare avanti fino al percorso a Villa Iole Allora Belvedere Cesira sta qua E dove? Allora Aspetta Sentiero principale Che è questo Al bivio Per via Belvedere Cesira Ah qua Proseguire fino al bivio E quindi da qua Svoltare a sinistra Ma se vado a sinistra Vado a Belvedere Cesira No? Sì No? Sì 414 Andate fino alla fine Del percorso verso Villa Iole Ma sarà di qua? Quindi? Dove sto andando? Secondo me stiamo andando a Villa Iole Io ve lo dico Lo sento Sento l'odore di Iole Iole Eccoti qua No 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 E' qua E' qua E' qua E' qua E' sicuro 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 Sento Iole Sento Iole Mi sta chiamando E' qua 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 Mi riconosco la strada di Iole Questa è Iole proprio È Iolissima È Iolanda quasi Guarda Guarda come ti porta Iole 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 Stiamo andando verso Iole Maronna Mi non mi ricordo Aiuto Dove stiamo andando Villa Bosco naturale Sarà nel bosco naturale Ma sì Ma quella Iole Abita in un posto Ah ma qua ci siamo passati No Necca Sicuro Andata No Ho sbagliato Ho sbagliato Però questo non vuol dire Che abbiamo sbagliato Vuol dire che abbiamo visto Altri paesaggi Caprini Ma forse da Via Tramborio Via Trombone Un'altra Madonna Ma perché erano fissati Con le madonne Cioè oddio Posso capire Ma che è Ma che schifo Ma perché Ma che dolore No dai L'insetto nelle Aia che dolore L'insetto nelle orecchie Che Che cazzo Ma c'era bisogno Dove sto andando a sbarcarmi Io non lo so Vabbè io salgo Da qualche parte arriverò Amici Da qualche parte Ci dobbiamo andare Cioè da qualche parte Dobbiamo arrivare Tipo Pronto Permesso Posso Pronto Villa Ior Difficile dire Quali siano i panorami Più belli di Capri Se non vuoi camminare Troppo Partendo da qui Sulla strada Per Villa Iovis Si vede il porto Di Marina Grande Dal Belvedere Di Piazzetta delle Noci Si vede l'arco naturale Villa Malaparte Un caratteristico antro Sopra un terrazzo Dove è sistemato Il forno Di un tipico ristorante Poi dal Belvedere Sull'arco naturale Si intravede uno splendido Scorcio di mare blu In una cornice di roccia Sti cazzi Cioè non E quindi Chi te l'ha chiesto Pensavo c'è Qualche informazione Naturale Cosa sta succedendo Mamma Cioè Oddio I cavalli I cavalli Stava leggendo Sì sì No palesemente Stava leggendo Che devo fare Con i ciuchi Che devo fare I asinelli Perché Perché ci sono Dei ciuchi In una stanza In una casa E che mi faccio Le domande Saranno cazzi Di quelli che hanno La casa Scusami Giusto Mi sembra anche Normale No non voglio andare Dei ciuchi Voglio andare giù Per uscire Posso tornare A casa Sarà Sarà andando avanti O sarò andando indietro Sono me Indietro Perché io stavo Andando di qua Ok Adesso Vado ancora Più di qua Ma quindi Lui a che cosa Mi è servito Ma io dove sto andando Dio Mi sono persa Qua dentro Posso entrare Pronto No ma questa è la casa Dei ciuchi Di nuovo Ma vaffanculo Se vai in gita Sì ma non lo so Ciao Serpico Grazie mille Per essere stato Con noi Allora Qui è soltanto Un pazzo Pezzo Pozzo Io sto continuando Ad andare Io penso Che da qualche parte A Villa Iole Ci dobbiamo arrivare Cioè Dove cazzo Sto andando Ma che è Tutte ste vini Ste mare Allora Di qua C'è un Posto Monetella Maronna Io sto facendo Il giro in tondo Signora Questa è la signora Di prima Oddio Aspetta Calmi Calmi Ma abbiamo soltanto Tre checkpoint Per il Il giro del mondo In 80 giorni Raga c'è una strada Che non abbiamo percorso Si vive un pezzo Di mappa Alla volta Ma vaffan Cacchio Forse qui No Hanno fotografato Un portone Senza nessun motivo Apparente Perché sì Perché sono stronzi E devono farci soffrire Però aspetta Secondo me Questa è la strada No Non c'è niente qui Dove mi sto andando A sper Raga Io mi sto andando A sperdere Dove Non so Io sto Io vado avanti Però Non so dove Quando Volveras Villa Lidia Vogliamo andare A Villa Lidia No è chiusa Ma vaffan bagno E allora andiamo Andiamo Qua ci siamo già stati Quindi no Andiamo dall'altra parte Bello sto portone No ma Non capisco Dove andare Adesso Cioè ho veramente Disturbanza Nell'andare Mamma Da piccola Mi curava Axel Monte Per questo Sono arrivata Alla mia età Scendeva Dalla capa E curava Gratissi Pove Che grand'uomo E che grandi donne Lo venivano a trovare Alice di Russia Irene di Grecia Zita d'Austria Eugenio Bonaparte E anche Vittorio di Svezio Lui Le curava tutte Le curava tutte Le curava Vabbè signora Lei è stata curata Grazie mille Per la sua deposizione Ma che è Sta musica Ma all'improvviso Ma che è Sto tormento interiore Vabbè Lui le curava tutte Ciao Scimei Grazie per la compagnia Posso dire È brava Le curava tutte E lui era Era un curatore Raga C'aveva i poteri Un'altra maronna Ma perché erano fissati Con le maronne Questi Penso che abbiano Iastemmato più e più volte Probabilmente Durante il loro Trasso Jack Fersen Ma lui perché è vestito così Ma che ti perri Poi Ha detto Che ti perri C'aveva gli amici Non lo so Com'è chiamata Villa Fersen Radioattivo Fersen Sentite bene Si può risentire Si può risentire Voglio la foto Sopra l'asinello Ehi Ma sarà andato via Vabbè ma sono maghi Comun Ma questo è il cortile Di prima E perché prima Non c'era Forse devo guardare A Villa Fersen Fersen Messicano Allora Tiberio No Quindi Voglio andare A Villa Fersen Villa Fersen Quello di Lady Oscar Si Si No ma Sto sempre lo scherzando Jamma Non Non dirmelo Sto soffrendo Jamma La vedi la mia sofferenza Ho gli occhi Della soffritudine Raga Io la Villa Iole Non la trovo Kixotic Mi hai mandato La fotografia Di Villa Iole Ti prego Dimmi di si Villa Iole Allora Aspet Posso entrare qui dentro No questa è sempre la signora Che vende gli stracci Allora No non è questa la mappa Io voglio La mappa Partendo da qua Fermi Ti stanno a ricattare Non lo so Jamma Si Si Sbatto gli occhi Mi stanno ricattando Allora Fermi tutti Che questa è una rapina Se io fossi Via Cesina Cesina Via Cesina Ma non è questa Ma è un'altra Cesina Perché è via Belvedere Si arriva da via Belvedere Cesina Che però non è questa Dove cazzo è Raga mi sono persa Come faccio a perdermi con la mappa No fermi Raga non è quella E via Perché dice San Michele Dov'è San Michele Vedete San Michele? Io proprio che lo vedo San Michele Dov'è San Michele Salvatore e Teresa Santo Stefano Evangeli San Michele Ui Dobbiamo andare là Dobbiamo andare là 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 Fermi Fermi Ci siamo Ci siamo Dobbiamo andare verso No Sto sbagliando strada Mannaggia me Di qua Sì Dritto Adesso dritto così Fino a dritto Adesso dritto drittissimo Ok Dritto drittissimo Come se non esistesse altra roba Non esistono le altre strade Strade Non esistono le strade No Non ci esistono Stiamo andando bene? Stiamo andando sempre bene Sempre dritto Sempre dritto Gli amici non si fermano mai a chiedere Ma io ne so leggere le cartine Se fossero fatte per bene Chi è qua dentro? Ci siamo mai stati? Raffaele Te la regalo Te la attacchi a fianco All'ingresso di casa tua Grazie Tutta gioventù comunque Per fare questo gioco eh Perché mi fanno tutti Tutti i regali comunque Bravissimi Bravi Mi fanno un sacco di regali Bravissimi Sono molto orgogliona di questa cosa Mi vogliono bene Raga ma io ci credo Mi faccio a piedi Tutta capri Ogni giorno belli sti fiori Fotografia fatta con i fiori Giusto per triggerarti lo spirito e l'animo Allora stiamo andando alla chiesa di San Michele Sì stiamo andando Santo San Michele Santo San Michele Allora sarà di qua quindi? No perché questa ci sono stata prima E non era qui Ma era di qua Quindi Perché San Michele è qua Se questo è San Michele Io Dove devo andare? Di qua? Pronto? Hello? Monte San Michele Sì Secondo me è la strada giusta raga Raga è la strada giusta È quella La sento La percepisco La strada è quella La porta è No No non bussa Occhio ai portoni verdi Eh ma ce ne sono tanti di portoni verdi Eh vabbè ma a casa non sa chi svingoli però Dasad Ti odio Chi è Dasad? No forse Davide Quinta Ad No È la strada giusta Anche prima la percepia Eh vabbè ho capito Però adesso è giusta Più giusta Raga il portone verde Madonna mia Ma che è sto posto? Questo è vino di Tiberio È una specialità di Capri L'annata è buona Eccoti un bottiglione Cristo Santo Che paura Dio mio Ma perché lui è nudo? Ammazza che bicipite Ma signore Mazzicò Si metta una maglia Eeeh Guarda il photoshop Tutto sblurrato Qui sopra Per far finta Che non abbia niente Ma è tutto sformato Ma è sformatissimo Ma è L'hanno photoshopata Ma no E lui è dentro lì È proprio dentro Non guardate le mani Ma non guardate nulla La faccia super prod Del suo vino Va bene Ok L'hanno censurato Perché altrimenti Era troppo sessuale Non ha l'ombelì Non ha niente Signore Grazie Mille Per il bottiglio Finalmente Ho trovato Sto bottiglione Di vino E quindi adesso Ci stiamo avvicinando A Villagiole Ti prego Sì Raga dove cazzo Sta sta Villagiole Ma non è qua Villagiole Oddio La musica Pronto Qua Ah Il Konami Code All'improvviso Il Konami Code Me lo segno Mi segno Il Konami Aspetta Su Destra Su Su Sinistra Su Vabbè Konami Fatto Qua devi portare La Yucucina In mezzo alle fresche frasche Oppure dal signore Col bottiglione Pronto C'è qualcosa qui Allora Qui c'è qualcosa Vedo delle esplorazioni Amici Un diario Lo rubo C'era altro Che potevo toccare Ma perché devo andare Nella munne Ma perché questi hanno girato Nella munnezza Ma signora Che mi urla Scusate Volevo sentirmi Come la signora Posso andare via Vi prego Qual è il sentiero principale Che ne so io Eternetta Mai finire Sì ma basta Con questa musica Non funziona Ma quanto canta Eh belli I panni stesi Raga Arte Che voce suave Raga Arte I panni stesi Bella Basta Ma che Dove cazzo è Non capisco È un codice Ah ma questo è il bottiglione di vino No è il bottiglione di vino Che è sparito No non ci serve quindi Il bottiglione di vino Vino Non vito Il bottiglione di vito È un'altra cosa Non devo andare di qua Ma devo andare di qua Vero? Che paura Ma Stefano Ma io ti denuncio Alle autorità Ma io ti denuncio Alla Cassimbons Ai carabinieri Ti denuncio Grazie Cinque sub Asmoka Timmy Lumen Antares E zio Pandamino No Panda Minore Rosso Che entrano Tornano nel fantastico mondo Dei pepsomani Io non so vedere Ma allora Che bello Il pacco nuovo di ste Sembra molto Ambigua Come cosa Però raga Io sento urlare Voi non l'avete sentito Perché è partito Il Il subs Però non C'era un urlo C'era una signora Che è stata ammazzata Probabilmente Oh no I cani Oddio I cani Uyokui Uyokui Villa Yes Sì Pronto Grazie Raffè Mandami il caciocavallo Che ti spedisco Una scatola di cacao Che serve a mia cugina Quale scatola di cacao Signora Ah Per fare la capresti Pronto Madò Ciao Ciao Lumen Ma che cos'è Ciao Gabs Ma che cos'è Ma questa è alta tecnologia Tu infili in un imbuto Un caciocavallo E lei ti infila in un imbuto Un pacco di cacao Che è veramente Di sottomarca Però Ma scusami Ma perché questa sottomarca Del cacao Tre stelle Ma manco cinque Tre stelle Tutto fatto Ma guarda lì Ma perché fa Ma scusa Non potevano Non potevano pigliare Il cacao La normale La fotografavano La scatola Ed era finita Perché Ora so a cosa Servivano gli imbuti Ma che cos'è Ma il Nesquik Ma ma Sì ma pure la scatola Del Nesquik Andava bene Dovevano pagare i diritti Eh perché Per le altre cose Hanno pagato i diritti E io quindi Che devo fare La devo dare Pronto Ma io Vabbè Vabbè Grazie Posso andare via Vado via Tanto qui Non ci dobbiamo tornare Mai più E quindi Che abbiamo fatto Abbiamo dato il caciocavallo Il bottiglione L'abbiamo preso Allora Il bottiglione L'abbiamo preso Villa Ioli Ci siamo andati Dobbiamo andare Da Firmino All'arco naturale Un gulo E come ci arriviamo Lì giù Allora Andiamo alla croce Fermi Raga Io in tutto ciò Non ho mai salvato No ti prego No 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 Ti prego Questo coso Se crasha Io sono morta Ti prego Come si salva Qua Salva Sì Ti prego Sì In uno Ok Parti da dove sei Sì Ok Tutto a posto Tutto a posto Sto bene Adesso sto bene Ehm Dobbiamo andare All'arco naturale Da Firmino Quindi suppongo Che si vada di qua Perché io devo andare dritto Per uscire fuori dalla mappa Ehm Ma non sono ancora uscita Vaffancuccio Usciamo fuori dalla mappa Benissimo Adesso Per andare all'arco naturale Dobbiamo Svincolare A destra Qui Forse Sì 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 Ok Vedete come tutto si riallinea Vedete Esamina la scatola della torta caprese Forse ci sono gli ingredienti Che devi prendere Questa è una bella idea Questa è una bella idea Sfizzi di pane A posto Fatto Vabbè Però sappiamo che ci dobbiamo mettere il cacao Questo è poco ma sicuro Il cacao Servono le nocciole Per fare la caprese E Il latte La farina Però la farina non me la ricordo nel gioco Sono fuori dalla mappa Ehm Farina uova Ma No ma le uova non servono Qua vogliono Mi pare le cose essenziali Vogliono le nocciole Il cacao E forse serviva un altro ingrediente Però non mi ricordo se era il latte E le acciughe Ma come le acciughe Ehm Ok Noi stiamo andando avanti però Non vi preoccupate È tutto a posto Ho tutto sotto controllo Che era questa Pronto? No oddio Il signore di prima Ma c'è il signore adesso? Signori controllo Il signore è sparito Come al solito Perché È un mezzo stronzo Guarda lì Guarda Guarda come sparisce Però che casa Bellissima Bellissima Ci voglio andare anche io Allora Per scendere Dobbiamo salire Non so che cosa ho detto Però voi fate sì con la testa Sta andando tutto bene Raga Sta andando tutto bene Ci stiamo dirigendo All'arco naturale Dovevamo andare all'arto All'arto Il libricino che hai trovato Ah è vero Noi non abbiamo visto Il libricino Del diario qui Dov'era il diario? Era qua Eccolo qua Fermi Variante per il teletrasportatore Aggiungere Ordinare Partita di resistenze Ma cosa sono? Ma questa è scienza brutta No Ma aspetta Mi serve Coso Barbascura Signora come l'ho scritto Sono confuso Ti prego Mozzarella Pomodori Basilico No La frase è sbagliata Quella è un'altra caprese Che pure dobbiamo fa Chiama Bellò Ma questa è fisica No raga Non mi piace Questa corda lì No no Codici Funziona Spedire fax Un foglio 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 Com'è? Forse l'ho scomposto Foglio Esamina Madonna Quanto piccolo Gli ultimi risultati sperimentali Hanno confermato i calcoli teorici Non è possibile utilizzare L'energia KJ2 Per il salto dimensionale Tra gli universi di Voes Ok Capito Benissimo Avete capito tutti? Oh Perfetto L'importante è che abbiamo capito tutti L'importante è capire Adesso Noi invece Ritorniamo all'arco naturale Stiamo andando all'arco naturale In tutto questo Qua dobbiamo Scendere E poi dobbiamo andare assieme A queste mosche Che passano Nella testa Ora per andare all'arco naturale A sinistra Stanno andando? Sì sto andando Sto andando Sto andando Non Non vi fidate di me Io la so La strada Ci fanno troppo intelligente 2 più 2 Qua le 5 Sì sì Quello Stiamo andando Ma cosa dovevamo fare All'arco naturale In tutto questo? Io ho scritto Fermino arco naturale Ah Gli dovevo portare il giornale È vero Gli dovevo portare il giornale Perché questo è l'inizio Proprio Ma io all'arco naturale Ci sono passata Prima Però non c'era nessuno Signora Fa ancora le Lasagne col culo No Non le fa più Firmino Sì 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 Dobbiamo trovare Firmino Come prego Raga Se non sapete Non è colpa mia Però non ci sono case All'arco naturale È un arco naturale Come fare lasagne? Fatevi i fatti vostri La signora mi ha capito Eh vabbè Qua sta partendo Yamma yam Mangoppa yamma yam Non è che forse Devo andare In posti Che non ho visto Tipo di qua Oh I bei paesaggi Di capri Che bello Cosa devo guardare? Col cuore Ovviamente Sì Con tutto L'amore L'affetto Che solo Una signora Può avere Sarà Ma io Non ci sono Già stata qui No Non ho memoria Di questo posto Oddio Che difficile Aspetta Non ho memoria Di questi posti Mi sono persa? Sono i faraglioli Che vediamo Dalla sua finestra Sono esattamente Quelli Casa mia sta qua Sono io Che abito A via Arco naturale Aspetta Forse Ho visto Un asciugamano Questa è una casa Però non mi fanno A casare Perché noi venivamo Da qui Eh Ragazzi Noi siamo All'arco naturale Più naturale Di così Si muore Però non Non posso più andare Perché è proprietà Privata Cosa? Sì Le fotografie Paesaggistiche È un universo alternativo Quindi la casa Di Yooka Lì non c'è Esatto La musica Potevano farla Un po' più alta Madonna santa Sul serio Non è casa tua E non è più casa mia In questo universo Saliamo sopra La casa di questo tizio Dove cazzo abita Questo sfaccimmo? Qua! Fermino Mocca sorda Hai portato l'insalata? Quale insalata? Ma poi con quale accento? Allora me la vuoi portare Quest'insalata? Mi hai portato l'insalata? Ma quale insalata? Scusami Quale insalata? Pronto? L'insalata? No, no, no L'insalata? Ho un pomodoro La caprese Per prima cosa di calmi L'insalata? Ah! L'insalata? Non l'avevamo raccolta? Sì, ma lui vuole la caprese Vuole l'insalata fatta con la mozzarella Dove prendo la mozzarella? Ma fra l'altro la rucola Ah, non l'abbiamo data al signore Raga, facciamo così Mi hai portato l'insalata? Ricordiamoci che lui sta qua Ok? Fermi Ci serve una mozzarella Ritorniamo in piazzetta Ritorniamo in piazzetta Poi Andiamo da Saporito Che magari Saporito ci ricambia in mozzarella Non mi ricordo Magari lui lo sa Mi sa dire dove posso trovare le mozzarella Signora? Le signore non ci sono più Ma queste non faticano mai Cioè, ma scusami Io che sono venuta a fare a Capri Ma io non lo so Lavoro solo io in questo po' Signore Il bottiglione di vino Tieni Uso Telefona al Conde Quattro Cuori Che ti deve dire una cosa Ma ti do altri dieci caprini E come lo Dove lo chiamo? Mi sa dire il numero? Capo È sparito? Ma porca troia Va bene E il numero del telefono? E dove lo chiamo? C'è una mozzarella Frisca frisca Che è arrivata proprio stamattina Con statici caprini E beh Cri da fa Pippo Franco Sto scemo Una mozzarella Fresca frisca C'è una mozzarella Che è proprio una felicità Ti raffa Magna te sta mozzarella Che ti ha ricrei Ti ha ricrei Ti ha ricrei Fresca frisca Poi abbiamo preso la mozzarella Ma è rimasta la carta Lui in mano L'ho presa L'ho presa a mani nude Ho la mano piena di latte In questo modo Lui è rimasto con la carta così Io l'ho presa a mani nude Buona questa mozzarella E qui Bravi Twistone Vedete che tutte le mozzarella Tornano a posto E quindi come la faccio L'insalata Ho la mozzarella Ho i pomodori Mi serve qualcuno Per fare l'insalata Raga mi serve anche un Un tabacchino Lo so che è una cosa strana Da chiedere Permesso Le tre specialità Più genuine Della cucina di Capri L'insalata caprese Con mozzarella Basilico E pomodoro La torta caprese A base di mandorle E cacao E il limoncello Un dolce liquore Giallo Ricavato dai limoni A parte la settimana Enigmistica Signora Una carta in mano La carta da mozzarella Fresca fresca Io me ne vado Olio e sale No No Non ci serve Quindi Ci hanno chiesto Di fare due cose su tre Bello questo ristorante Vabbè ho capito Ma vedi perché Devo guardarmi il ristorante Ma non mi interessa Ma signora Mi smolli Mi faccio andare via Mi serve un Mi serve un Oddio No no Basta la mozzarella Fresca fresca Un tabacchino Un tabaccherio Ti prego Dammi una tabaccheria Se io fossi una tabaccheria Mi metterei Qua Trovata Ma non c'è nessuno Che paura Dio santissimo Che paura L'avete vista Ma questo è Jumpscare Però Ma perché questa qua Sta qua Ma che cacchio Di paura Ma siamo scemi Ma siamo scemi Ma è sempre lei Sì è sempre lei Sta cessa È Richard Benson Sì Un pochino ci sono Ma io non Mi serve il tabacca Ma perché non lavora Nessuno Che dentro Vabbè Allora Fermi Magari la ragazza Mi sa dire Signora Ti posso dare La scatola La scatola Raffaele Mi dispiace Ma per fare una torta caprese Ci vogliono altri ingredienti Che balle Ciao Coren Oi Coren E chiss tu Coren Ok Fermi Sì vabbè Tutti fai gli sporchi Appena vedi da qui Stiamo un po' calmi Dico io E dammeli No No servono le mandorle Io le mandorle So come farle Perché Per fare le mandorle Per fare un tavolo Ci vuole il legno Per fare le mandorle Ci vuole Un fico Con un'arancia Però Se io adesso Mixo Una pera Prendo un'arancia Mi serve un fico Qualcuno ha un fico Se io metto un limone Con una mozzarella Oh io ho un'arancia Ce l'ho Non Lavoro in una passata Passiccerina Ma li ha finiti Lo avevi preso Il fico No Non ce l'ho No paradiso Dove stavano i cavalli C'erano i fichi No Non il fico d'India Il fico d'India L'ho preso L'ho trasformato in arancia Mi serve un fico Fico Un fico Di quello Fico Come si chiama Raga io la frutta Non la conosco Si chiama fico Per me Per me Questo è fico d'India E questo è fico La mozzarella Non è un frutto Questo è quello Che pensi tu Camarino Per me Tutto può essere frutta Va bene Un pippo franco Raga In tutto questo Io mi ricordo Che tra le varie cose Noi dobbiamo cercare Un Un ristorante In cui farci fare La La caprese Fatta con La mozzarella E il pomodoro Però non mi ricordo Dov'è il ristorante Non ne ho idea Devo andare a via Cruppo Forse Punta cannone Non Allora Vediamo un attimo Capri Maps Allora Vediamo un attimo Fermino Arco naturale Voleva La caprese Questo qui Lo scrivo E scrivo caprese Benissimo La nora del ristorante Ha detto Mozzarella Pomodoro E basilico Cazzo Serve anche E il basilico Vabbè Troveremo Il basilico Non è Adesso Però Lo troveremo Ci serve Capire Dove Trovare Il Non credo Il terras Kixotic Perché il terras Credo che sia quello lì Dove la signora ci ha parlato Delle lasagne fatte col culo Però Non è quello È un altro Ristorante Ma non mi ricordo In che strada sia Facciamo una roba Andiamo alla croce Verso la grotta No il basilico La discesa a mare Si trova la rugola Che abbiamo già preso Basilico per altezzilico Ma che cosa dici Quello da Tonino Sì Bravo Kixotic Mi ricordo Tonino Non ricordo Non ricordo nient'altro Ma mi ricordo Tonino Ma non è che forse È di qua Tonino Perché dobbiamo andare Da Tonino Tonino Aveva un ristorante Pare che sto parlando Di mio cugino Aveva un ristorante Da queste parti Tonino Che però Adesso Non rimembro Cabine Ah cazzo Eh ma non abbiamo la scheda Per chiamare Hello Non abbiamo la scheda Ci manca la scheda Perché Per chiamare Io posso chiamare Però mi serve il tabaccaio Per comprare la Tessera telefonica Non ce l'ho Vedi Posso mettere La mastercard A parte il fatto Che noi dobbiamo andare Da Da Lembo Dov'è che abitava Lembo Il famoso Tonino Che è il ristorante Ciao Elito Buon pomeriggio Eh Hanno inventato Il teletrasporto Ma non i cellulari Dobbiamo andare pure Da Lembo C'è scritto sul documento Veramente Ti prego Sì Impronta Digitale Ah Eh Sì Residenti alla quercianella Bella Bella sta quercianella Me la chiavo veramente Nella quercianella Dov'è la quercianella? Ma io perché Devo fare questa vita? Quercianella La quercianella Vedete la quercianella? No Eh E mo? Allora Cosa ci ho provato No problem Che è successo Sarpedonte? Qualcosa mi dice Che sei dischi Ah Io? Ah no A scuola Ok Tonino dovrebbe essere In via Dentecala Sotto alle grotte Quali sono le grotte? Qua Ok Quindi devo andare a Dentecala A Dentecala Ok Al Dente E per andare a Dentecala Dove devo andare? Dritto di qua? Boh Sarà questa la strada dritta? Sì Suppongo di sì Perché sto andando dritto Quindi per me è dritto Andiamo a Dentecala Che poi Questa è via Cercola Ma pare che veramente Mi sto perdendo Tipo mio padre Quando si perdeva In estate Quando dovevamo raggiungere La Calabria Ma che cacchio Ma chi mi ha fatto fare Questa vita? Forse è di qua Dentecala Piazzetta delle noci Ci siamo Madonna mia Ho fiuto Dopo via mamma Cos'è questa roba? Qualcuno suona strano? E questo è un quattro? Ah Questo è quattro ciocche Lì Il tizio che dobbiamo chiamare Eccolo Tonino Amici Siamo arrivati Vai Ho preso Un sacco di Che ho preso? Che ho rubato? Che è sta roba? Esamina Salvia La salvia A che serve la salvia? Pronto? L'ingegner Fermino Ha ordinato Un'insalata caprese Ma non teniamo Gli ingredienti Raffaele Ce li vuoi portare? Prendi questo sacchetto E metticeli dentro Va bene Ce li metto Dentro Tieni Ci abbiamo Il pomodoro Il basilico La mozzarella Prendi No Non la puoi? Tieni Ti do tutte le cose No Il basilico Il pomodoro La mozzarella Tieni Eccoti L'insalata caprese Fatta Fatta Fattissima Un po' raffreddato Il tizio Vabbè Ma capita Vabbè Non è che tutti Possono avere Il naso Che funziona Raga Con tutto il piatto Così Mi devo portare Un piatto intero Guarda che bel piatto Però Madonna il piatto Veramente della nonna Raga così Erano i piatti Di mia mamma Così Io posso mai Fa stati È la peggior caprese Che io abbia mai visto Non ci hanno messo Un filo d'olio Sono diventato Un globo Non ci hanno messo Un filo d'olio Dov'è l'olio Nella mia caprese Terribile Un piatto per il corredo Dio mio Allora Fermino È all'arco naturale Quindi Se io vado a sinistra Poi vado dritto E la porto di qua Di qua Di qua Perché questo è l'arco naturale Firmino abitava qua Perché io mi ricordo Che adesso Se mi giro C'è la casa Vero No Scammata Allora Se vado più avanti No Era più avanti Dell'arco naturale Era un po' più Dritto Forse era qui Mi giro Non è vero Ti ha rubato il corredo Sì Tutta colpa di Firmino Raga Era su Non mi ricordo più Era di qua Abbiamo sceso le scale No Ehi vabbè è ripartita la musica Sì vabbè Buonanotte Firmino Ma dove cazzo ti sei andato a imboscare Firmino Mortacci tua Firmino Firmino No Non è qua Era vicino all'arco E noi ci siamo Però siamo troppo giù Perché io mi ricordo che era qui Era tipo all'intersezione Quindi non era qua Ma era sopra Risaliamo Risaliamo E riportiamo Il Firmino Al suo posto Daie Vediamo un attimo Ciao Elsina Vai via Ti voglio bene Grazie mille Per essere stato Firmino Eccolo Pidu Stagabres No Non va Pro Grazie Raffaele Germanza Ti teletrasporto Questa lampadina Ti potrebbe essere utile Che mi ha dato Una lampadina Ma dico io Ma io scusami Io ho fatto Io ho fatto Tanta strada Tanto lavoro Tanto sudore Tanto sacrificio Per cosa Per una lampadina Ma io te la chiamo in cuore La lampadina Tesoro mio Ok Quindi lui non c'è Adesso se la mette nel cannone Sai dove gliela metto La lampadina Vabbè E raga Noi abbiamo fatto Tutto quello Che dovevamo fare Praticamente Cosa manca Dobbiamo portare Il Il giornale Ancora Perché abbiamo ancora Il giornale Ma lonna finalmente È finita con la musica Di merda No Beh fermi Bella Spaccata al tabacchino Che non ha voglia Di lavorare Dopo tutto questo Trabusto Non poteva darci dei soldi Ma a cosa servono i soldi Abbiamo finito i soldi In tutto questo All'attacco piccolo O quello grosso Raga è una lampadina Blu Punto Vabbè Il telefono sta a piazzetta delle noci Sì ma serve la scheda Per poter chiamare Serve la La scheda che Si compra Dal tabacchino Da quello che mi ricordo io Ma non è che se mettiamo La salvia Qui di No No Non funziona Vabbè Annullo Annullo È la lampadina di Twitch È vero Il giornale Lo dobbiamo portare Al Al tizio Però io non so dove sia E poi ci servono queste Faccimma di Di cose Di Mandorle Per fare la torta Devo fumare la salvia Attacco rimasto invariato Dagli anni venti È vero E raga Io non so dove Dove trovare Le cose Per poter fare La conversione Con Le mandorle Che ci Toglierebbe Questa roba Da Icones E poi Non mi ricordo Dove Dovevamo portare Il giornale Perché l'ha detto All'inizio Che ho detto Porta questo giornale A Gennaro Esposito Però non lo so Perché poi Fatto questo Io non Non so più Che cosa devo fare Annullo Fermi Sì no Sofficino Io so dove Ti ci porto Ti ci porto Ciao Feffa Buon pomeriggio È il banchiere Dove abita il banchiere Ve l'hanno detto Sapete la strada Perché io non la so Eccolo qua Però serve la tessera Interdimensionale Non accetta la Non suppongo Che non accetti la visa Quindi utilizziamola No non va Non accetta la visa E quindi niente Dobbiamo per forza Cercare qualcosa Proviamo a ritornare Un'altra volta Dal Dal tabacchino Che magari a suo giro Lo vende Forse no Non lo so No Aspetta Forse adesso ricordo Qua non ci sarà nessuno No Noi dobbiamo andare A restituire La tessera A querciarelle Perché se restituiamo La tessera Alla tizia Che Che ha perso La tessera A Giacomo Ma stai zitto Se andiamo alla quercianella La tizia Che è la sorella Mi pare Ci dice Guarda che Ti posso ricambiare Con un gratta e vinci Se non erro Non vorrei di una Puttanata Però se non erro È così Credo E non so se Però penso che sia così Non sto mentendo Chi è? Feffa Che torna per quattro mesi Ma Ben Tornhaus Ben Tornhaus Nel fantastico mondo Dei pepsomani Li dobbiamo prendere le noci? Aspetta Dobbiamo prendere anche le noci Ma lì dove? Sofficino Prendi il figo d'India E lo cambi con il limone Ma figo e il limone Mi fanno arancia? No non Controlla la mappa E vedi che Via Occhio Marino A sud-est della città Da saporito il fruttivento L'amore a sinistra Quindi a Via Occhio Marino Dobbiamo andare? Dov'è Occhio Marino? Dov'è Occhio Marino? Oddio Occhio Marino Qua Ok Allora Fermi Facciamo così Proviamo ad andare Dal signore Devo girare Perché non era di qua Ma era di qua Forse Non lo so Sto inventando delle strade Sì Ok Devo andare dritto Andiamo a dare Il giornale al signore Dopodiché Stacchiamo E continuiamo Quanto pare Continuiamo giovedì Eh ma c'è un fotografo Ah no Qua ci siamo stati Però lui non vende foto Vende solo occhiali Però non Manco quelli vende In realtà Oddio Mi sono fatta Mannaggia Mi sono fatta trascinare Dalle euforia Dovevo andare di qua O di là Ma era a destra A sinistra Il fotografo Di qua Era questa la strada Giusto? Forse Fico d'India Limone Raga Aspetta Fermi Un attimo Esamina Fico d'India E limone Potrebbe essere Quindi devo prendere Un altro limone No Martis Come niente ride Cosa è successo? Mi avete reidato Martis No Mi dispiace tanto Ma che è successo? C'è i ride bloccati No Le tue impostazioni Non ci permettono Di redarti con Twitch No Mi dispiace Scusatemi Amici Mi fate uno shout Al viaggio di Martis Grazie mille Grazie mille Amici Buon pomeriggio Come va? Come va? Che succede? Come è andata la Lives? Ma avete fatto obiezione Perché stavate giocando Phoenix Wright? Mi dica Mi telli Mi narri Almeno abbiamo fatto La seconda opzione Mi dispiace Devi prendere un altro Fico d'India Il limone già ce l'hai Ah il limone ce l'ho Quindi mi serve L'altro Fico d'India E voglio andare più In un altro Fico d'India Mi turnico Aspetta no Però forse turnico Di qua Proviamo Tanto stiamo qua Cioè tanto Mal che vada Abbiamo No ho sbagliato strada Puffarclesio No Ti vedo presa Da questa perla Guarda che io sto Sto riscoprendo Capri Poco a poco Cioè molto poco Però poco A poco La sto riscoprendo E io spero Che anche voi Vogliate scoprire Capri Insieme a tutti quanti noi Perché Questo gioco è arte Questo gioco ti insegna Che la caparbietà E l'agilità Non le ha Soltanto Batman Ma a quanto pare Le hai anche tu Se riesci a finirlo Perché Guarda Non so nemmeno seguendo la mappa Me la ricordo a memoria Guardate qui Se arrivo al fico d'India A memoria Sono campionessa mondiale Di fichi d'India Ma se io mettessi due fichi Ok un altro fico Prendiamo il fico Ma io non mi ricordo Tu sto scombinamento di fichi Dove l'hai trovato? Martis Ho le copie fisiche Non sono qui attualmente Ma le ho fatte vedere ieri Fermi allora Ormai sono Caprese Doc Lassate sta Allora devo infelare il fico E qui Ma mi esce una pera Ma va a fare un bagno Raga ma mi esce Guardate ma che tiene le mani bucate Te lo vuoi prendere su limone Io ne prendo un altro Ma se io facessi pera e limone Sì ho le copie fisiche amici Se io facessi pera e limone Secondo voi Mi uscirebbe un fico Ma quel tizio più bellissimo È un dispensatore automatico di limone Io torno da lui Signora Non mi dice più niente Aspetta Allora questo e questo Mi davano pera Se facessi pera e arancia Non ci interessa Perché a noi serve il limone Dammi un altro limone Tanto ormai Siamo qua Basta Si è offeso Quanto Photoshop Lascia stare Mad Max Ce n'è molto di quanto Più di quanto sembri Dobbiamo scendere a occhio di Martino Quindi scendiamo a occhio Martino Pera e Fico L'abbiamo fatto Ah no abbiamo fatto pera e limone Ma no Serve per forza il limone Serve per forza il limone Il boh Perché sul volantino c'è scritto limone più Però non sappiamo l'altra cosa Questo è il limone Limone più Ciao Seba Grazie mille per la compagnia Non lo so Non ne ho idea Andiamo con l'occhio Marino Fermi Andiamo a occhio Marino Che così Concludiamo con occhio Marino La nostra Inquietantissima Visita a Capri Poi continuiamo giovedì Amici eh Mi raccomando Chi si perde giovedì Non è figlio Di Bold e De Siga È brutto Non essere figlio Di Bold e De Siga Cioè io penso che comunque Mi sentirei abbastanza offeso Nella vita A non essere figlio Di Bold e De Siga Dove faccio Ma sto andando adesso No sto andando Matteo No 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 Matteo Tornate indietro da Matteo Nonna Controlli il catalogo Delle invenzioni di Gravitiello Aspetta io voglio guardare Ma che è sta roba Ma che è sta cafonata Ma dove sto andando Museo della Certosa Mamma Ma questa è Mamma Pronto Signora Ma c'è qualcuno Qui No Madonna che silenzio Aiuto Ma dove cazzo Ma che è sto bosco Ma perché è il bosco All'improvviso Oddio No Perché è il bosco All'improvviso Ma cosa succede Eh il panoramica Limoni arancia L'abbiamo fatto Limoni arancia Non va Esplode Perché ho seguito Le indicazioni Del mio cuore Posso entrare Posso uscire Stiamo uscente Stiamo uscente Stiamo uscente Ciao Mauro bello Diventa un horror Ma ma lì ci ammazzano Dove si sta infognando Ma non lo so Posso entrare Da qualche parte Io voglio entrare Nei posti È chiusa Ma vaffan Cacchio Vabbè Tutto chiuso No raga Non possiamo entrare qua Perché questa Mi ricordo Questa è la parte finale È il dungeon finale Quello La chiesa di San Massimo Vabbè Noi non dobbiamo andare qui Però Dobbiamo andare a destra Perché salendo qui E girando a destra Dobbiamo andare a via Occhio marino Ok Andiamo all'occhio di Martino Martino Vedi C'è il puti 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 Eh Lo sapevo Lo sapevo Cos'è qua Mamma No 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 me lo ricordo Questo enigma Questa era Madonna santissima Ciao Marx Grazie mille Per essere stato con noi Ciao Mad Grazie mille Grazie ancora Per il ride C'è Non a lei Però A Martis La guida mi dice Arancia e fico Arancia e fico Vabbè A quello ci penseremo Dopo amici Arancia E fico Abbiamo appena Perso un'arancia Come cazzo L'avevamo fatta L'arancia Come l'avevamo fatta L'arancia Raga Non hai il fico Ah Pensavo Fico di India Proprio Fico e limone Ok Fico e limone Davo un'arancia E se faccio Pera e limone No Ah ma il fico Non ce l'abbiamo più Vabbè Vabbè Affanculo Non fa niente Poi ci riprenderemo Il fico Torneremo a prendere I nostri fichi Non vi preoccupate Non vi preoccupate Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Andiamo a portare A Firmino Le cose Era Occhio Marino Giusto che dovevamo andare E noi stiamo andando Per Occhio Marino Perfetto Chi è qua? Lembo Uè Fermi Madò che twist Che twist Uè Raffae Che vuoi? C'ho un pacco per lei Signora Tieni Tieni Grazie Raffae Mio fratello Giacomo La stava cercando Per mare e per terra Però non c'è E' andata a Pischipur E la ricompensa? Raffae Che vuoi? Ma come? Ma questa cessa Non mi dà niente Ma ti ho preso Un documento smarrito Ma questa è scema Banchiera uscita Andato di amico Traversa sopra il monte Vicino casa Fruttivendolo Puoi tenere giornale Signora I limoni Signora Traversa Ma questo quindi Mi serviva per capire Dove abitava Devo andare a prendere il signore Alla traversa sopra il monte Mannaggia Mi si è bloccato tutto Mi si è bloccato Ma ci stanno trattando male Signora c'è un uomo per lei Signora A chi lo lascio? Quindi il giornale lo posso tenere E vabbè amici Allora ci teniamo il giornale Beh va Profit Salvo sul 2 Partiamo da dove sei Raga io finirei Giusto andando a prendere Un attimo il fico Rifacciamoci l'arancia Vi prego Perché se no me lo dimentico Endemica del Trentino Sì sì no Lei è proprio Del Trentino Trentino alto Adige Allora vi prego La strada Era questa Devo andare ancora più su Credo Sì Poi vado qui Vado qui Guarda guarda Adesso so dove trovare i miei fichi In un batter d'occhio Cioè adesso posso anche Non guardare più la mappa So dove sono i miei fichi Guarda lì Guarda come ti faccio vedere i fichi Guarda come ti tocco i fichi Va là Va là Va là A pochi click da noi Fico caldo A pochi click Eccolo qui Un fico di qua Un fico di là E vabbè ho capito Ma 7 km è più a un figo Ma vaffan bagno Scambiamo il ficus Per Oh no Signore mi scusi Mi rubo un altro limone Questo è limone illimitato Con cosa dovevo Aspetta Come si faceva l'arancia L'arancia si faceva con Fico e pera Quindi fico Pera Ed arancia Perfetto Adesso io però Non mi prendo un altro limone Il signore è andato via per sempre Mi prendo un fico E salvo Va bene? Guarda come tocco i fichi Lo tocco Salvo Tocco il 2 E siamo qui Amici Mamma che avventure Qua